Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a questo terzo incontro della rassegna Leggere il Presente, quest'anno dedicato alle ferite del mondo e questa sera affrontiamo quella che se avessimo fatto un sondaggio sarebbe quella che a tutti e a tutte sarebbe venuta in mente per prima, la guerra in Ucraina, una guerra a poche ore di macchina da casa, una guerra in Europa, una guerra che ci ha lasciato tutti sconvolti 13 mesi fa e che però ormai è entrata nella routine quotidiana, è la notizia del giorno, è la cosa più brutta che può succedere, che è una cosa a cui ci si può abituare e allora stasera vogliamo guardare a questa ferita del mondo con gli occhi di un testimone diretto, uno che tanto per dire nell'ultimo anno è stato sei mesi in Ucraina sui fronti di guerra e questo vuol dire tanto, lo ringraziamo, lo salutiamo, nello scavo, lo conoscete tutti. Non vi faccio la sua biografia, è bravo, fidatevi, è bravissimo. Allora io ti chiederei come prima cosa, tu hai scritto una frase che dice così, non esistono parole giuste per raccontare una guerra, ma di certo esiste il modo migliore, impresa diretta. Ecco, puoi cominciare a raccontarci di questa guerra, le sensazioni, il sapore, l'odore, il colore, l'umore, come si vive in guerra oggi in Europa? Prima di rispondere lasciatemi ringraziare gli amici della Biblioteca Civica di Brugherio, l'amico che ha avuto la pazienza di stare appresso al mio calendario, che come mai tutti sanno è gestito personalmente da Vladimir Putin perché ormai decide lui quello che dobbiamo fare quando stare a casa, quando spostarci. Il sindaco, l'amministrazione e tutti voi che siete presenti qui questa sera. Per me è sempre un modo anche per, così, dovessi dire la verità fino in fondo direi che io dovrei girare una percentuale degli introiti del libro ai lettori, alla gente che incontro, perché spesso anche dalle domande, dalle osservazioni, anche dalle critiche arrivano nuove idee. La guerra è sempre un grande mistero e probabilmente la cosa peggiore che può capitare a una comunità è anche la cosa peggiore che capita a un giornalista. Perché raccontare una guerra non è mai stato facile e non è facilissimo raccontare questa guerra. Quando io penso a quella frase lì, che mi è venuta non so come, in una delle notti di Kiev, delle prime settimane di combattimento, quando eravamo tutti molto preoccupati e pensavamo che saremmo rimasti bloccati per mesi e mesi nell'assedio della città, in realtà stavo pensando probabilmente, questo ci ho pensato dopo, credo di essere stato corrispirato da un maestro, patriarca, apripista del nuovo modo di essere corrispondente di guerra. Io preferisco più la definizione, devo dire, di corrispondente alle aree di crisi, che non è molto utilizzata nel contratto nazionale dei giornalisti, ma perché dà più l'idea di che cosa è il nostro lavoro e anche di che generazione di giornalisti si è formata in tutti questi anni seguendo molte crisi. Però Robert Capa, il fotografo celebre anche e soprattutto direi per le sue immagini durante la Seconda Guerra Mondiale, a lui dobbiamo la testimonianza visiva di quello che è accaduto durante lo sbarco in Normandia e in altri luoghi e che poi è morto in Indonesia occupandosi proprio di seguire uno di questi conflitti, diceva due cose, una che può sembrare retorica quando uno la racconta, io so sempre un po' di pudore a riferire questa, però ormai ho capito che riscontro una certa tolleranza e benevolenza in chi mi ascolta. E l'altra che invece è molto tecnicamente vera, la prima è questa, lui diceva la posta in gioco per un corrispondente di guerra non è tanto la verità o la ricerca della verità, non perché non sia importante anzi, ma perché la posta in gioco per un corrispondente di guerra è la sua vita. E questo è un rumore di fondo che noi ci portiamo appresso quando andiamo nelle aree di crisi, cioè noi lo sappiamo che il nostro biglietto è di sola andata e non è solo un modo di dire e anche in questa guerra per tanti colleghi il biglietto è stato di sola andata. E l'altra cosa che diceva Kappa è che se la foto è venuta male non è un problema della macchina fotografica e che non eri abbastanza vicino. Io cerco di tenere insieme questi due riferimenti, provando a dire che vicino non vuol dire necessariamente essere vicino a dove sparano. Io ho molta paura di andare dove sparano, poi ci vado. Ma vicino vuol dire essere vicino ai protagonisti della guerra. I protagonisti della guerra sono naturalmente i soldati, sono i generali, sono i politici che prendono le decisioni, ma sono soprattutto le vittime, le vittime in grado ancora di proferire parola e quindi sopravvissuti e quelli che non ci sono più e che la guerra l'hanno subita fino all'ultimo respiro, tanto tra i militari quanto tra i civili. Io credo che la responsabilità di un giornalista oggi sia provare a tenere insieme entrambe queste misure. Anche perché questa guerra, soprattutto nelle prime settimane, ci ha molto impressionato perché non abbiamo dimenticato, spero, le colonne interminabili di profughi, quasi sempre donne con bambini, perché gli uomini, come sapete per effetto della legge marziale che obbliga tutti i maschi adulti, quindi dei 18-60 anni di età, a restare nel paese per mettersi a disposizione delle autorità nel caso fosse necessario recarsi in zone di combattimento, però queste colonne di profughi andavano raccontate mentre intanto si sparava. E allora il giornalista deve raccontare la trincea, i bombardamenti, ma deve anche raccontare la gente che scappa, perché attraverso anche gli sguardi, le parole, le paure della gente che scappa riesce a raccontare meglio una guerra. E quindi questa è la grande complessità dei conflitti moderni e di questo conflitto in particolare, che non si è esaurito, speravamo naturalmente che la guerra durasse poco, però io non faccio previsioni, ogni tanto me le chiedono, non faccio previsioni perché ne ho fatta solo una di previsione sulla guerra in Ucraina e l'ho sbagliata. Ed ero più o meno al terzo o quarto giorno di guerra perché ero a Kiev, ero voluto restare a Kiev. Io sono arrivato il 21 di febbraio, non per una mia intuizione, ma perché il giornale, il caporedattore, in questo caso Francesco Riccardi, sapendo che io vado dappertutto, mi chiese il sabato 19 se avessi avuto qualcosa in contrario a piccare il naso a Kiev. Il 20 non ho trovato il volo, il 21 mattina ero già a Kiev. Quando ho visto la città, oramai è pressoché assediata la gente che scappava, i militari che scappavano, perché dopo il primo bombardamento, insieme a Francesco Battistini del Corriere della Sera e Paolo Brera di Repubblica, inseguivamo le colonne fumanti, perché un giornalista fa quello che le persone normali grazie al cielo non fanno, e cioè i profughi vanno di solito in direzione opposta ai bombardamenti e i giornalisti devono andare nella direzione opposta a quella dei profughi. E quando abbiamo visto per esempio un palazzo in fiamme, ci siamo resi conto perché nella concitazione del momento, non è che Google Maps funzionava quella mattina, e non ci siamo resi conto sul momento che stavamo arrivando al palazzo, al quartier generale dei servizi segreti di Kiev, che era stato bombardato. Ce ne siamo accorti perché appena abbiamo scavalcato il guardrail, abbiamo lasciato la macchina di un nostro accompagnatore dall'altra parte della strada, scavalchiamo il guardrail e ci siamo trovati i Kalashnikov puntati in faccia. con la faccia che sanno fare gli italiani quando sono in difficoltà, non avevamo la scritta press, la guerra era appena scoppiata, non avevamo pensato neanche a indossare il giubbotto antiproiettile, non c'erano gli accrediti stampa per i corrispondenti di guerra perché fino a poche ore prima la guerra non c'era. E quindi noi eravamo degli stranieri come molti altri, abbiamo spiegato di essere giornalisti, ci hanno allontanato, ci hanno allontanato in maniera molto determinata e decisa, i militari però non ci sembravano determinati e decisi, ci sembravano spaventati più che altro, e l'incendio che era stato provocato dal bombardamento veniva utilizzato dai servizi segreti per distruggere tutti i documenti dell'archivio. E quando tu sei in un paese nel quale vedi che la guerra è appena scoppiata e i servizi segreti la prima cosa che fanno è dare alle fiamme tutti i documenti, cominci a pensare che le cose si stanno mettendo molto male. Pensate che in uno dei ponti di Kiev erano stati schierati i tiratori scelti che stavano, dovete immaginare la campata del ponte ad arco, quindi la striscia d'asfalto nella parte di vertice aveva schierati, sdraiati sul terreno, i tiratori scelti che con il mirino inquadravano la via che permette di raggiungere l'aeroporto di Kiev e da cui si presumeva sarebbero potuti arrivare le forze russe. Noi a piedi attraversavamo questi soldati, noi camminavamo e c'erano questi ragazzi distesi con il fucile, con il mitra, con il fucile di precisione e altri e lì abbiamo avuto la sensazione che se questi stanno qui ci lasciano per giunta passare perché abbiamo capito che siamo dei civili come altri perché passano da lì anche i profughi e sono pronti a sparare qui sul ponte che potrebbe anche essere bombardato tra l'altro perché sapevamo che erano arrivati degli elicotteri, li abbiamo visti, abbiamo sentito naturalmente anche i cacciarussi, li abbiamo visti nella prima notte di bombardamento e ho detto qui sta andando tutto fuori controllo, la gente scappa, i soldati fanno quello che possono però si sono messi sulla porta d'accesso alla città e sembra che non ci sia un ordine in quello che accade, pensate che durante la prima mattina di bombardamenti la polizia di Kiev utilizzava i coni, quelli bianchi e rossi dei cantieri stradali, quelli di plastica, li usava come megafoni, dicendo in russo, in ucraino, missile, missile, nessuno di noi capiva cosa dicessero, capivamo che dovevamo buttarci da qualche parte. Di fronte a questa scena, quando poi abbiamo visto questa colonna di carri armati russi lunga circa 60 km avvicinarsi alla città, non so se voi avete presente, per darvi l'idea, il raccordo anulare di Roma, che è la circonvallazione più estesa d'Italia, la misura è di circa 70 km, ora Kiev che è una città grande, è una metropoli, ma non è grande come Roma, ha i sette colli come Roma, ma non è grande come Roma, 60 km di carri armati russi che stanno arrivando in città vuole dire solo una cosa, adesso ci chiudono da sedio e noi resteremo qui chissà per quanti mesi. E quindi di fronte a questo io ho scritto, l'ho proprio scritto, Kiev cadrà provando a reagire o cadrà senza reagire? Perché il mio punto di vista era quello del giornalista che arriva da Milano e che dice, ma se 60 km di carri armati russi arrivano intorno ai navigli, che succede? Tra me e me ho detto, come si diceva patriotticamente da qualche altra parte, Franza o Spagna basta che si magna e quindi dico, finirà che a Milano buona parte di noi avrebbe indossato le magliette con la faccia di Vladimir Putin, avremmo saputo tra l'altro anche a chi chiederle queste magliette e probabilmente la faccenda si sarebbe chiusa lì. E invece succede un'altra cosa, alcuni dicono che si sia trattata di una lezione per noi, altri dicono che si sia trattato di un errore, senza però voler dare un giudizio di valore per quanto io abbia le mie idee su questo, succede che per darvi l'esempio, quando è che capisci che sta per scoppiare una guerra? I giornalisti fanno tre cose prima di una guerra, vanno a visitare le banche e gli sportelli Bancomat per vedere se c'è coda, perché se uno ha paura che scoppi la guerra va a prendere i soldi, poi vanno il giornalista nei supermercati, perché se uno ha paura che scoppi la guerra di solito uno che fa si prende un po' di roba e poi vai dai benzinai, perché c'è sempre coda dei benzinai prima che scoppi una guerra, perché si fa il pieno oppure proprio da approvvigionarti anche con delle taniche. A Kiev niente di tutto questo. Fino al 23 sera i ristoranti erano aperti, c'era preoccupazione, c'era tensione, ma si escludeva che la guerra potesse partire da lì. Noi decidiamo di restare a Kiev perché io arrivo a dicevo il 21, il 22 una mia fonte diplomatica mi dice, fino alla scorsa settimana ho inviato dei cablogrammi ai miei superiori, i cablogrammi sapete sono questa sorta di telegrammi cifrati, perché diciamo tra di noi della comunità occidentale ci vogliamo talmente bene e ci fidiamo tanto che è meglio tenere le comunicazioni nascoste. Ho mandato un cablogramma ai miei superiori in cui ho spiegato che la guerra non scoppierà da Kiev, si intensificherà dal Donbass. E poi aggiunge, mezz'ora fa ho inviato un nuovo cablogramma ai miei capi nel quale preannuncio la guerra da Kiev entro 48 barra 72 ore. Io chiedo naturalmente che fonte avesse, ovviamente non me l'ha rivelato, mi ha dato però alcune indicazioni che mi sembravano consistenti. E quindi scappo in albergo, vado da Francesco Battistini e da Paolo Brera e gli dico ma sentite ma le nostre testate vorrebbero probabilmente che noi andassimo nel Donbass, però visto che nessuno di noi è un ragazzino, ma se la guerra scoppia davvero da Kiev, che è un evento epocale giornalisticamente, qui diciamo ci metto dentro se volete anche tutto il cinismo dei giornalisti. C'è un libro bellissimo di Richard Kapuscinski che dice che il cinico non è adatto a questo mestiere, quindi io cerco di non essere, però realisticamente da giornalista dico ma il valore notizia di una guerra che comincia da Kiev è enorme e io non posso permettermi a quasi 50 anni all'epoca, nel frattempo li ho compiuti, un errore di valutazione di questo tipo, cioè non posso andare nel Donbass e mi perdo il bombardamento su Kiev, perché il bombardamento su Kiev ha un valore diverso rispetto al Donbass dove la guerra c'era da otto anni, anche se venisse intensificato, anche venissero usate delle armi ancora più aggressive, ma Kiev è Kiev, Kiev è la storia che cambia per sempre e quindi decidiamo di restare e assistiamo a una città che non crede sostanzialmente a che la guerra potesse cominciare. Fino a quando poi, dopo questi primi giorni così rocamboleschi, noi vediamo gli studenti universitari e gli studentesse negli scantinati che cominciano a fabbricare bombe Molotov e questa cosa ci dà l'idea che stesse serpeggiando la necessità di reagire in qualche modo e soprattutto io da cronista che presumeva di avere una certa esperienza di cose militari dico ma che ci faranno con le Molotov contro i carri armati russi, gli faranno il solletico. Invece lì, e qui devo usare la parola lezione dal punto di vista della pratica combattente, gli ucraini danno una lezione, perché in effetti le bombe Molotov servivano da una parte se volete anche a risollevare il morale della popolazione, cioè proviamo a resistere con quello che abbiamo e siamo disposti a usare qualsiasi arma per non lasciarci schiacciare. E da un punto di vista della pratica militare vuol dire ad esempio che se lanci una Molotov contro un blindato o contro un carro armato gli hai fatto il solletico, ma il guidatore del carro armato, il manovratore, è costretto a chiudere lo spioncino a causa delle fiamme che si sprigionano all'esterno. Lo spioncino è blindato, col vetro blindato, quindi non c'è pericolo che le fiamme arrivino dentro. Però è costretto, perché le fiamme comunque disturbano la guida a chiudere lo spioncino e a manovrare il mezzo o con il visore elettronico, oppure ad arrangiarsi se non c'è il visore elettronico, cambiare lo spioncino, muovere la torretta per trovare il modo di spegnere le fiamme. Questo momento rallenta il carro armato per alcuni secondi e in quei pochi secondi i civili, le milizie che si chiamano teroborona, cioè milizie territoriali, volontari territoriali, erano state integrate all'esercito regolare e a quel punto gli specialisti con i cannoni a spalla, con i missili a spalla, colpivano il carro armato, perché rallenta e disorientato e basta una frazione di secondo per poter prendere bene la mira e colpire il carro armato. Non solo, in quel momento si capisce che Mosca, noi non disponevamo di tutte le informazioni, abbiamo scoperto alcune cose molto tempo dopo, ma alcune lì mentre eravamo lì. Un'altra cosa è che da subito si capisce che Mosca si muove come un pachiderma e che è un esercito muscolare, muscoloso ma senza cervello. Per farvi un esempio, i carri armati arrivano dalla Bielorussia, dalla Bielorussia a Kiev comunque sono 200 erotti chilometri, i carri armati bevono tantissimo e non è che ti fermi all'autogrill a fare il pieno e quindi devi portarti appresso le autocisterne militari blindate. Ma siccome la blindatura dell'autocisterna può essere perforata dai missili a spalla o da un certo tipo di proiettile, allora i carri armati venivano disposti a protezione delle autocisterne, perché se salta l'autocisterna non c'è più carburante per i carri armati. Che cosa fanno i militari ucraini? A quel punto puntano le autocisterne, perché se colpisci l'autocisterna ottieni un duplice effetto. Il primo è che salta in aria l'autocisterna e che devasta i carri armati che stanno nei rintorni. E se anche i carri armati dovessero resistere all'onda d'urto, rimarranno senza carburante poco dopo. In ogni caso rallenteranno perché c'è l'esplosione e i missili successivamente sparati farebbero fuori i carri armati. Questo ha permesso di bloccare l'avanzata della corazzata su Kiev e ha cambiato la storia di questa guerra. Poi successivamente abbiamo appreso che cosa? L'aeroporto di Ostomel, dove noi non riuscivamo ad entrare, c'era stato un viavai continuo di elicotteri russi che hanno provato a portare i corpi speciali, ma soprattutto stavano arrivando alcuni aerei per le truppe aviotrasportate e le forze ucraine sono riuscite a distruggere uno di questi aerei in fase di atterraggio. A quel punto Mosca non riesce più a mandare le centinaia di uomini che servivano per l'aggressione sul terreno e che avrebbe rinforzato il fianco rispetto ai carri armati. E la guerra cambia da quel momento, la guerra da quel momento cambia e c'è un popolo che piaccia o no che dice ce la possiamo fare. Intanto però noi ci troviamo in una situazione molto complicata. Io nel libro l'ho raccontato perché questa storia per me è stata così importante da raccontare. Mica perché non abbiamo visto altre guerre, perché anche giornalisticamente sono accadute delle cose che accadono solo nei film. Io faccio sempre questa cosa, questo esempio e poi dopo mi farai altre domande, però hai già capito che sarà complicato interrompermi. No, però state tranquilli, il mio record è Buenos Aires dove ho finito alle cinque e mezzo del mattino una volta, però parlavamo del Papa e di Maradona, quindi era diverso. No, dicevo che cosa succede? Che intanto la popolazione reagisce anche in una maniera che noi non ci aspettiamo, perché c'è una parte che decide di resistere, di combattere e poi c'è una parte che decide di resistere in un altro modo. Noi vediamo scene da film, no? Io La vita è bella di Benigni e l'ho rivista in qualche modo, con le fatte le dovute proporzioni, perché noi abbiamo dimenticato, e sono abbastanza sicuro che abbiamo dimenticato, che in quei giorni era carnevale e i bambini negli scantinati e nei rifugi erano molto spaventati e allora le mamme cosa facevano? Molto spesso, con i pochi trucchi che si erano portati a presso, il rossetto, la matita, le cose, facevano il trucco a bimbi ai figli e al mattino quando finiva il coprifuoco vedevi sbucare queste famigliole, per esempio in un rifugio vicino al giardino botanico di Kiev, queste famigliole con questi bambini truccati e le mamme ti dicevano perché è carnevale? Dobbiamo fare qualcosa per questi bambini che stanno vivendo questo trauma? Io tra me e me mi sono detto ma chi è che verrebbe in mente una cosa del genere in un momento così? E intanto abbiamo visto poi per esempio altre scene drammatiche quando una ha ricordato noi personalmente, io l'abbiamo raccontata perché è stato possibile raccontarla, noi in un certo momento ci siamo trovati in una situazione molto complicata perché un corrispondente di guerra di solito ha un piano B, un piano C, un piano D ma molte volte non funzionano ed è capitata una sera in cui ci siamo trovati in una situazione in cui non funzionavano e quella sera per dirvi quanto io sono coraggioso avevo scelto l'albergo accanto all'ambasciata italiana a Kiev, se succede qualcosa mi butto dentro l'ambasciata. In effetti è successo qualcosa e quindi con gli altri colleghi devo dire che in quel momento accapitava che i colleghi portoghesi, francesi, spagnoli perivano portati via dalle loro autorità diplomatiche, hanno organizzato le sfiltrazioni di questi giornalisti e io dico ma stiamo tranquilli, adesso andiamo all'ambasciata italiana, vanno bombardando, i russi sono già entrati in città, erano state delle sparatorie, alcuni soldati russi si erano travestiti da soldati ucraini e avevano preso dei mezzi blindati ucraini perché i soldati ucraini vedevano arrivare, dei loro pensavano con militoni, quando si sono avvicinati li hanno sparati e quindi i russi prendono il controllo di alcuni mezzi e con quelli entrano nel centro della città e noi eravamo nel centro della città. Ci sono sparatorie, ci sono i bombardamenti, all'inizio spaventosi, non che adesso non siano spaventosi, purtroppo ci si abitua, però nessuno di noi era stato sotto i missili iperbarici o i missili personici. Conoscevamo queste armi dai cataloghi, però nessuno di noi era mai stato sotto un missile iperbarico, immaginate sotto 400 missili iperbarici. e quella notte succede appunto che io dico tranquilli buttiamoci dall'ambasciata italiana, abbiamo preso l'albergo apposta, e l'ambasciata italiana però aveva chiuso, la bandiera non c'era più e l'ambasciatore si era spostato nella sua residenza, che era fuori però dal quartiere diplomatico e che stava diciamo esterno rispetto al centro di Kiev. E lì noi abbiamo avuto un momento di grande difficoltà, perché non sapevamo che cosa fare. E lì siamo entrati nel film di questa storia, che io racconto perché si capisca che alcune cose succedono, e le racconto perché se avessi dovuto diciamo romanzarle non le avrei mai inventate queste storie che sto per raccontarvi, perché sono troppo da cliché, da spy story, troppo scontate. E invece si sono verificate sotto i nostri occhi, quasi non ci credevamo. La prima è che a un certo punto l'ambasciata, quando noi finiamo in questa situazione molto complicata, si dice ok state calmi, tra un quarto d'ora, venti minuti passerà un minivan bianco con il portellone aperto, rallenterà, tanto non c'era nessuno per strada, era notte, sparatorie, coprifuoco, rallenterà, non si fermerà, voi vi buttate dentro e poi vi porteranno in un luogo convenuto dove ci saranno i nostri che vi porteranno al sicuro. Dico oh, bellissimo, come nei film, veramente. Adesso arriva il camioncino, ci buttiamo dentro e allora il camioncino lo vediamo avvicinarsi e quello che si ferma a 50 metri da noi e i due alla guida scappano e lo lasciano piantato sul centro della strada. E voi potete capire che cosa uno pensa in quelle situazioni, no? E allora io chiamo Francesco Battistini, richiama l'ambasciata e l'ambasciata dice come ne sono scappati. E allora io, pensando di essere intelligente, dico prendiamo noi il controllo del pulmino e invece ci dicono no, fermi. Abbiamo capito dopo il perché, perché non si poteva escludere che magari dentro il pulmino ci potesse essere qualcosa di spiacevole. Come poi abbiamo scoperto a essere avvenuto molte volte quando entravamo nei carri armati abbandonati dai russi e adesso non lo facciamo più perché i russi sono fatti furbi, visto che devono abbandonarli lasciano le granate dentro i carri armati. E quella sera succede che in effetti poi ci raggiunge un'auto con targa ucraina ma con degli italiani, che capiamo subito che essere un certo tipo di italiani, perché io tutta la vita ho passato a spiegare ai due o tre che mi leggono che gli agenti dei servizi segreti e dei corpi speciali non sono come nei film, non sono alti un metro e novanta, hanno due spalle così e ci hanno il parlato da film. Invece scendono da questa macchina quattro marcantoni di un metro e novanta con due spalle così, con la faccia da film, che si avvicinano subito a me perché forse avendoci la barba un po' grigia pensavano fossi l'anziano del gruppo e mi dice, proprio come nei film, io non l'avrei mai scritto, mi dice questa situazione non mi piace per niente. Io lo guardo, adesso non conoscevo il suo nome, adesso lo conosco ma non può essere riferito ovviamente, lo guardo e dico, cioè tra me e me penso, mazza se non gli piace a lui. E allora dice, proviamo ad andare a dare un'occhiata, lui con altri questi due agenti si avvicinano al pulmino e ritornano urlando perché le chiavi del motorino di avviamento erano state spezzate dentro al sistema di avviamento del bus, del minibus e quindi ci hanno caricato su questa unica auto, questo fuoristrada, eravamo in otto o in nove in una posizione, l'ho raccontato anche nel libro, in una posizione tra l'altro potete immaginare in otto o nove in una macchina, tutti poi insomma io non sono particolarmente magro tra l'altro, in una posizione per la quale ho maledetto il giorno in cui non ho fatto yoga, però con la promessa a Francesco Battistini che non avremmo mai raccontato a nessuno in che posizione eravamo io e lui, perché scherzando ma non troppo in mezzo ai bombardamenti ho detto Francesco, ma io guarda non sono stato assiduo in questo genere di letture, ma nel Kamasutra questa non c'era e lì ci hanno portato in una safe house e abbiamo capito quanto è importante il lavoro diciamo dell'intelligence, perché tante volte noi parliamo mai dei servizi segreti e c'è gente che invece lavora con molta attenzione, con molta coscienza e le safe house sono questi appartamenti apparentemente innocui, che un paese con un servizio di intelligenza adeguato affitta nelle città dove può accadere qualcosa, in vari quartieri e che possono servire come via di fuga o di copertura se le cose si mettono male e quasi sempre nei garage di questi appartamenti ci sono le auto calde, le chiamano loro, cioè che un giorno sì e l'altro no vengono messe in moto controllate se fosse necessario, quella volta era necessario anche per toglierci da questa situazione piuttosto imbarazzante e quindi arriviamo lì, saltano fuori altri italiani con delle altre auto, ci distribuiamo, attraversiamo la città di notte, dovevamo andare piano ma non troppo piano, perché c'era in corso il coprifuoco e il coprifuoco vuol dire una cosa, che se tu sei per strada e non sei autorizzato, quindi non sei un poliziotto né un militare, puoi essere un sabotatore russo, quindi puoi essere arrestato oppure per farla breve ti possono sparare. Quindi se vai troppo piano in macchina sei uno che forse sta perlustrando, se vai troppo veloce sei uno che forse sta scappando e per quanto ci fosse stato un contatto tra le autorità italiane e quelle ucraine per dire ci sono dei mezzi nostri con questa targa che si stanno spostando così e così, la tensione era altissima perché non sai mai se il ragazzino col Kalashnikov dall'altra parte della strada ha ricevuto indicazioni, se trovate dei treffoli strada di quel colore non li toccate, perché è successo purtroppo in altre circostanze, anche ad agenti segreti italiani, di finire all'altro mondo perché c'è un ragazzo che nel dubbio dice io gli sparo e poi come va va, come è successo appunto il caso di Nicola Calipari e anche altri casi che magari non sono noti. Lì arriviamo nella residenza dell'ambasciatore italiano che ci accoglie e diventa il nostro rifugio, il nostro luogo di lavoro, perfetta dal punto di vista logistico per un giornalista perché era più vicino all'arina del fuoco e perché ci permetteva di accedere evidentemente a informazioni anche di un certo tipo, visto che eravamo letteralmente a casa dell'ambasciatore e perché al mattino dopo il coprifuoco potevamo uscire a visitare le zone bombardate e lì è accaduto film nel film, il cammino dell'ambasciatore diventa l'inceneritore di tutti i documenti dell'ambasciata italiana e il giardino di questa villa si trasforma in bracere per distruggere, perché poi la tecnologia e la modernità porta anche dei problemi nuovi perché mentre la carta la puoi bruciare nel cammino, le power bank, le memory card, gli hard disk dei computer, le chiavette usb e quelle non è che le butti nel cammino in casa e quindi erano tutte distrutte, ammartellate e bruciate in un bracere apposito. Allora se un giornalista assiste a tutto questo dice qui la situazione è fuori controllo da un momento all'altro perché se anche un'ambasciata di un paese comunque del G7 si trova in una situazione del genere deve chiudere, deve spostarsi per andare in una zona apparentemente più sicura nella casa dell'ambasciatore ma perché lì era più diciamo vicina eventualmente una via di fuga e deve distruggere tutti i documenti e si vede che qui pensano che la guerra è persa. E questo è quello che è accaduto e quello che è capitato e poi siamo rimasti lì per alcune settimane, ci sono stati momenti molto molto difficili, c'erano tanti civili italiani con tanti bambini piccoli, molti neonati di queste cliniche dell'utero in affitto su cui non voglio aprire nessuna diciamo discussione, però c'erano, c'erano e quindi c'erano queste famiglie spaventatissime, queste coppie con questi neonati che venivano portati tra l'altro direttamente dalla clinica perché era quello, era il mese in cui nascevano diciamo i figli degli italiani perché per risparmiare queste cliniche cosa fanno? Per risparmiare sulla traduzione, questo mese si insemina solo italiani, così c'è un traduttore che parla per tutti, peggio ancora è andato poi con i cinesi che era il mese dopo, capito? E quindi c'erano queste famiglie che si trovavano già in Ucraina prima della guerra perché aspettavano che il bambino nascesse e poi non potevano andare a prelevare questi bambini nella clinica perché c'erano le sparatorie e i bombardamenti e in maniera raccambolesca si faceva in modo che questi bambini arrivassero nella residenza dell'ambasciatore e potete immaginare cosa voleva dire lì stare con 25-30 neonati mentre c'è una guerra, mentre manca da mangiare, tanto che poi le autorità italiane sono riuscite diciamo a approvvigionarsi di cibo perché sfidando anche molti molti rischi, molti pericoli sono tornati evidentemente in posti dove sapevano che avrebbero trovato del cibo e lo hanno prelevato per sfamare queste famiglie. Noi a un certo punto noi decidiamo per esempio, a me anche fatto bene, decidiamo di metterci a dieta, cioè mangiamo un piatto di pasta in bianco al giorno e basta, lasciamo naturalmente tutto il resto ai civili, naturalmente prima di tutto ai funzionari dell'ambasciata e al personale di sicurezza, anche perché dico qui se questi non magnano è finita perché questi hanno i fucili e se succede qualcosa sono gli unici che ci possono proteggere. E quindi capite che è stata una situazione molto complicata. In quel momento, e poi concludo, in quel momento però devo dire che diciamo ti capitano anche istanti di grande bellezza e sono stati due in particolare. Uno che forse avete visto perché l'abbiamo mostrato da Fabio Fazio l'anno scorso quando l'ambasciatore italiano comincia a suonare al pianoforte della sua residenza. Lui è un grande pianista, il Pierfrancesco Zazzo. Io dormivo sotto al suo pianoforte che sta a piano terra, in questo salone che ha delle vetrate grandissime per cui fosse arrivata l'onda d'urto, ma non avevo voglia di stare giù nello scantinato bunker perché non volevo stare con gli altri colleghi e abbiamo detto se dobbiamo morire almeno con un po' di dignità moriamo qua su un tappeto persiano. E questo è stato un momento bellissimo perché l'ho detto e l'ho scritto di getto, un pezzo scritto veramente in dieci minuti quel pomeriggio, perché mi è venuto proprio da dire non abbiamo sentito solo le bombe. C'è stato un momento in cui la musica ci ha riportato diciamo anche all'umanità, che non può essere semplicemente violenza, brutalità. E l'altro momento molto bello, se volete che questo fosse mai retorico, ma credetemi dal mio punto di vista non lo è, è stato quando l'ambasciatore è stato chiesto, diciamo ordinato in maniera piuttosto elegante come si fa in diplomazia, di lasciare Kiev senza avere una meta precisa in realtà perché anche le strade intorno erano controllate, quindi bisognava fuggire da qualche parte e l'ambasciatore rispose al telefono testualmente, io da qui non mi muovo perché fino a quando a Kiev c'è un governo legittimo l'ambasciatore italiano non se ne va. E quello è stato uno di quei momenti in cui capisci che sta succedendo qualcosa di grave, che sono pezzi di storia che un domani ci racconteranno gli storici, che vedremo magari come si diceva un tempo al cinematografo, ma che fanno capire bene anche quale tipo di dramma si stesse vivendo in quei momenti. Sì, tu hai usato un'espressione per definire questa guerra che io ho trovato molto interessante, l'hai chiamata guerra matriosca, perché vista da qua o meglio la percezione che si ha superficialmente sentendo le notizie senza approfondire, ovviamente è di una semplificazione totale, cioè sia dei soggetti sia in quello che succede, per cui leggere un'espressione che è una guerra matriosca, quindi complicata da capire, complicata da raccontare, mi è sembrato un modo interessante, ce lo vuoi spiegare? Sì, l'ho chiamata guerra matriosca perché una delle sorprese di questo conflitto, una delle ragioni per cui questo conflitto è così importante, che ripeto, capiremo probabilmente più nel tempo, però io ho scritto il libro abbastanza rapidamente, ma non in fretta, perché volevo, con una certa ambizione, perché la crisi di mezz'età l'ho affrontata in questo modo, ho detto, forse è il momento in cui io dico la mia anche sul modo di fare questo mestiere e quindi volevo recuperare l'arte antica e nobile dei dispacci dal fronte, però volevo inserirla in un contesto, diciamo, di un conflitto moderno nel quale il giornalista deve raccontare anche raccontandosi. Perché raccontandosi? Perché sentivo il bisogno di smitizzare la figura del corrispondente di guerra, cioè raccontare le nostre paure e come le abbiamo anche superate, qualcuno dice che si chiama coraggio, io non lo so come si chiama, però volevo raccontarle le nostre paure, volevo raccontare anche qualche tic nostro, anche qualche ironia che tante volte capita che serve a tenersi in piedi e quindi anche per dire siamo esseri umani come tutti, non siamo degli svavolati in cerca di emozioni forti. Io ho una moglie e un figlio che mi aspettano ogni volta a casa e così la maggior parte dei colleghi. E perché volevo provare a dare un contesto al conflitto che non fosse semplicemente la guerra guerreggiata. E la guerra matriosca è uno degli aspetti meno raccontati di questo conflitto. Perché matriosca? Beh, l'immagine evidentemente è una metafora anche tipicamente dell'est. Ma perché quando per esempio mi è capitato di andare al fronte fino all'estate scorsa, mi è capitato di andare in giro con la legione straniera, una delle legioni straniere che si trovano lì. Io diventavo veramente matto perché per esempio a Kherson, che è questa città del sud dell'Ucraina che si affaccia sulla Crimea, dove la battaglia è stata furiosa per riconquistare la città che è stata liberata, ma quei russi che si sono attestati al di là del fiume che costeggia la città non si schiodano da lì e quindi la situazione è perfino peggiorata perché viene utilizzata l'artiglieria. E l'artiglieria è terribile perché si spara un po' a capocchia dove casca casca. E ovviamente si spara consapevolmente, si sa che ci sono civili se dirigo il tiro da una parte, però il tiro non può essere sempre preciso. E anzi l'imprecisione viene usata come arma di terrorismo in qualche modo per spaventare. Però lì che cosa capitava? Per esempio una volta sono andato con un soldato giorgiano e dico scusa ma che ci fai? Un giorgiano che parla italiano perfettamente perché fa il marinaio sulle navi commerciali a Ravenna, viaggia in giro per il mondo e di base a Ravenna, aveva un ottimo stipendio a Ravenna, lui lascia temporaneamente la nave per andare a combattere in Ucraina per uno stipendio molto più basso. Dico scusa ma perché sei qui a combattere? E lui mi spiega che era lì a combattere perché l'Ucraina, perché la libertà contro Putin e così e così e perché voleva vendicarsi della guerra tra Giorgio e Ossetia che c'era stata otto anni fa con l'invasione sostanzialmente architettata da Putin. E voleva vendicarsi in particolare con i georgiani e gli Osseti che dal suo punto di vista hanno tradito il suo popolo, la sua nazione, il suo Stato sposando la causa di Vladimir Putin. E lui aveva sul giubbotto antiproiettili 12 caricatori di Kalashnikov, quelli noi li chiamiamo a banana, insomma i caricatori a mezzaluna e sotto al caricatore aveva un pugnale, un grosso pugnale con un'impugnatura anche piuttosto diciamo bella artisticamente, cesellata. Ha detto scusa ma con quello che ci devi fare. E lui mi diede una risposta anche un po' così beffarda e sprezzante non vedo l'ora che finiscano i caricatori. Il suo scopo era ammazzare i suoi connazionali che hanno tradito la causa georgiana. Sempre da quella parte trovava i militanti ceceni, voi ceceni li avete sentiti raccontare soprattutto dalla parte russa, eppure ci sono ceceni che combattono con gli ucraini. E sono i perdenti delle guerre di Putin, perché Putin porta a compimento due campagne in Cecenia, la prima destabilizza il paese e lo distrugge, la seconda lo rade di Azzuolo. Vince e succede che i fedeli di Kadirov padre, Kadirov è l'attuale governatore della Cecenia, i fedeli di Kadirov padre inizialmente combattevano contro i russi, anche perché si tratta di milizie islamiste. Quindi avevano mille ragioni per combattere contro i russi, i russi avevano combattuto in Afghanistan contro gli afghani, quindi diciamo questioni di fratellanza islamica, mille ragioni. Dopodiché Putin compra il consenso della leadership cecena e oggi Kadirov figlio è considerato una specie di cane da guardia del Cremlino. Chi perse quella guerra oggi sta in Ucraina a combattere contro i ceceni che si sono venduti a Vladimir Putin, questo è quello che ti dicono loro. Poi trovate anche milizie islamiste da una parte e dall'altra, perché in Siria, e per questo dico che capire la guerra in Ucraina è capire un po' più lo scenario internazionale, perché lo scenario internazionale influenza la guerra ucraina e la guerra ucraina influenza lo scenario internazionale. In Siria le truppe di Mosca si sono alleate con i miliziani di Al-Qaeda per combattere contro l'Isis, quindi voi trovate dei ex miliziani dell'Isis che si sono arruolati nella legione straniera ucraina perché vogliono ammazzare gli ex miliziani di Al-Qaeda che si sono alleati, o meglio sono stati arruolati e portati in Russia per combattere in Ucraina per conto di Vladimir Putin. E quindi trovate ancora una volta, diciamo, l'eco di altre guerre più lontane, ma che si affrontano ancora una volta lì. Io potrei andare all'infinito, poi ci sono naturalmente anche estremisti di destra, anche italiani, che combattono con gli ucraini, estremisti di sinistra, anche italiani che combattono con gli ucraini, estremisti di destra e di sinistra che combattono con i russi, italiani anche. E lì non si capisce niente, ma come fa quello che è di destra a combattere contro quelli, però dici perché a noi hanno raccontato la nazificazione e tutto il resto. E poi c'è un altro elemento che è l'elemento religioso. Uno di avvenire non si può nascondere dietro a questa cosa, no? L'elemento religioso è fondamentale in questo conflitto, perché? Perché è un dato culturale, perché stiamo parlando di due paesi cristiani, ortodossi, che hanno professato la stessa confessione religiosa, hanno praticato allo stesso modo, si sono separate adesso, perché c'è la chiesa autoctona ucraina, e perché per anni ci siamo raccontati e ci siamo detti che la fede può essere utilizzata come arma non convenzionale di guerra solo da una certa religione, che indossa il turbante e usa la scimitarra. E invece scopriamo, anni dopo, che il crucifisso può essere utilizzato come arma di guerra non convenzionale. E oggi noi abbiamo il patriarca Kirill, che io chiamo la Yattola Cirillo, ma non per sfotterlo, perché poi mentre scrivo il libro mi sono ricordato di avere una ruggine di vent'anni prima con lui, perché noi siciliani siamo così delle volte, magari dimentichiamo, poi ci ripensiamo a certe cose, non ti passano. Allora, per fortuna non sono tutti così siciliani, però mi sono ricordato che vent'anni prima c'era stata una diatriba tra Giovanni Paolo II e Vladimir Putin perché venivano espulsi dei preti cattolici dalla Russia, preti cattolici non russi, con l'accusa di fare proselitismo. Io all'epoca avevo trovato una fonte russa anti-Putin, un diplomatico russo anti-Putin, che mi passava di nascosto le lettere di Giovanni Paolo II a Putin e le risposte di Putin a Giovanni Paolo II. Ma era tutta roba riservata, tanto che quando le pubblicavo su Avvenire, a un certo momento in Vaticano qualcuno si è preoccupato, perché dice guarda che i russi pensano che siamo noi a passarti queste carte, perché ovviamente uno dice, beh, il giornale cattolico pubblica queste lettere e gliele passa in Vaticano. Infatti è uno scoop di cui nessuno mi ha dato, diciamo, medaglia, io di questa cosa non vado molto fiero, perché poi sono naturalmente anche abbastanza vanitoso. E quella volta tra le lettere di protesta di Putin, una era accompagnata da una lettera di Kirill, che all'epoca era, diciamo, il ministro degli esteri del patriarcato ortodosso di Mosca, il quale sosteneva che non era molto contento di alcuni miei articoli e di un'intervista in particolare all'allora arcivescovo cattolico di Mosca. Quindi poi mi sono ricordato di questo dettaglio e questo me l'ha reso ancora meno simpatico e poi mi ha dato l'occasione per regolare i conti. Ma perché dico questo? Perché Kirill dice a un certo momento dobbiamo denazificare l'Ucraina per sostenere la guerra di Putin. Dobbiamo denazificare l'Ucraina. Ora, chi, diciamo, ha fatto un po' di studi su questioni naziste sa che, per esempio, non è che i nazisti con il mondo LGBT, che oggi si chiama anche Q+, andassero molto d'accordo. Poi gli storici ci dicono che i gerarchi delle SS tra di loro facessero certe robe, ma non si doveva sapere. E però Kirill aggiunge un'altra cosa. Dobbiamo denazificare l'Ucraina perché l'Ucraina, tra le altre cose, si è fatta corrompere dalla comunità occidentale a tal punto da aprirsi a una legislazione favorevole al mondo omosessuale, semplifico, e ha permesso di celebrare in Ucraina il Gay Pride. Ora, come si possano conciliare il fatto che, secondo Putin e anche Kirill, l'Ucraina sia un paese nazista, ma allo stesso tempo aperto alla cultura gay? Questo ce lo possono spiegare solamente loro. Ma poi è andata peggiorando la faccenda dal punto di vista religioso, e quindi qui era già chiaro che la religione veniva strumentalizzata per altri fini. Alcune settimane fa, di fronte ai problemi di approvvigionamento di carne da cannone, perché c'è questo problema che hanno i russi, non solo i russi, però i russi lo sentono molto, Kirill ha detto due cose. Sentitele bene. La prima dice a chi andrà a combattere, uccidere gli ucraini non è peccato. Ragazzi, il Patriarca Cattolico sta dicendo che Caino non ha commesso peccato ad ammazzare suo fratello Abele. E poi aggiunge, se anche doveste morire in battaglia, in questa guerra, accederete al Paradiso. Ora voi capite che mancano le 70 vergini e capite che stiamo parlando dell'Ayatollah Kirill, non del Patriarca Kirill. Allora, l'elemento religioso è fondamentale in questo conflitto. E prima lo capiamo meglio è, e ti faccio un esempio e poi chiudo, perché religioso e culturale? Perché nelle zone occupate dalle forze russe, adesso lo so che qualcuno dirà che sto facendo una narrazione a senso unico, dopo cercherò di spiegare anche cose in senso inverso se volete, però poi uno deve entrarci dentro le guerre e capire anche che cosa c'è nella testa dei comandanti, dei governanti. A Kerson, quando venne occupata, Kerson succede che ovviamente arriva il nuovo provveditore agli studi, che uno, un filo russo, preso e messo ridice, da domani questo è il nuovo programma scolastico, questo d'estate, perché il primo settembre si riaprivano le scuole. Noi abbiamo ottenuto da una insegnante donna molto coraggiosa la registrazione della riunione del nuovo provveditore con le insegnanti e gli insegnanti. Lei di nascosto ha registrato, poi è scappata ed è riuscita a farci avere la registrazione e siamo fatti tradurre. Sono circa 40 minuti. C'è un insegnante maschio che prova a reagire e gli dice va bene, non ti sta bene, domani mattina ti portiamo a Mariupol a ricostruire la città che voi avete distrutto. Sostanzialmente lo condanna ai lavori forzati. La preside protesta, viene licenziata in tronco e di lei non sappiamo più nulla. Speriamo naturalmente che sia viva, magari in qualche prigione da qualche parte, però non sappiamo più nulla. E tra le altre cose dice che bisogna in qualche modo favorire lo studio del matematico russo Fomenko. È un nome che immagino non conosciate, e meno male, perché se l'aveste conosciuto mi sarebbe preso un colpo. Perché? Allora io comincio a studiare Fomenko. Io studio Fomenko. E perché Fomenko? Perché in effetti Vladimir Putin qualche tempo fa ha incoraggiato anche lui lo studio di Fomenko nelle accademie militari, dicendo in sostanza le sue teorie sono da dimostrare, ma non possiamo escludere che ci sia del vero. E cosa dice Fomenko? Fomenko, tra le altre cose, sostiene che lui è l'autore della cosiddetta nuova cronologia universale. La trovate su internet. Secondo Fomenko, la storia che noi conosciamo è frutto di una manipolazione e anche di errori di calcolo, di tipo proprio aritmetico. Per esempio, dice Fomenko, la famiglia Tudor inglese, la famiglia regnante, non è Tudor, ma sono i Tudorov russi. E siccome sono discendenti dei Tudorov russi, il Regno Unito evidentemente è parte dell'impero russo. Questo lo so che vi fa ridere, ma aspettate. Fomenko dice che Gesù Cristo è nato in Crimea. Ora, voi capite che se Gesù Cristo è nato in Crimea, la Crimea non è solo russa da proteggere, è terra santa. Allora voi capite che c'è in ballo qualcosa di più, qualcosa di diverso. O non vi sorprende sapere che qualcuno magari pensa che io parlo perfettamente in russo, avendo studiato Fomenko. No, l'ho trovato tradotto in italiano, da tre anni a questa parte, da ambienti novax e terrapiattisti dell'ultradestra. Non so se questo sorprende qualcuno, a me molto poco. Però, diciamo, questo è il mondo che si affaccia intorno a questa guerra. Non vuol dire che dall'altra parte sono tutti buoni e che i cattivi sono tutti da una parte. Dico però che quando, a marzo dello scorso anno, noi cominciamo a investigare, per esempio, sulla sparizione dei bambini, inizialmente in solitaria, poi con tante altre testate giornalistiche, ci prendevano per pazzi. Ci prendevano per pazzi. E invece noi avevamo capito una cosa molto semplice, a di là dei numeri, perché i numeri poi sono da accertare, si parla di 20.000, potrebbero essere anche due. È una cosa enorme. E però che voi capite che se osserviamo la guerra da questo punto di vista, una guerra che è una guerra matriosca, che è una guerra che ha una sua radice culturale, che ha una sua manipolazione religiosa, che ha una sua, diciamo, anche intossicazione rispetto alla costruzione del nostro immaginario, perché la storia l'abbiamo studiata tutti più o meno in un certo modo. Chi con un punto di vista, chi con un altro, ma più o meno che l'America sia stata scoperta nel 1492, siamo tutti d'accordo. Che i Tudor non siano russi, Carlo non ha la faccia di russo. È vero che gli inglesi usano quel cappellaccio, i soldati inglesi, però non so, William non mi sembra che sia così. La regina, poi Elisabetta, tutto mi sembrava, tranne che una zarina, cioè era molto di più, anche qualcuno dice molto peggio. Però il punto è che tutte queste cose messe insieme ci fanno capire che non stiamo parlando solo di una guerra, ma stiamo parlando di qualcosa d'altro. E la sparizione dei bambini e il fatto che si è stato dato loro il passaporto russo e siano stati adottati da famiglie russe con una legge, con un decreto del giugno dello scorso anno, in violazione di tutte le norme internazionali, perché ci sono famiglie italiane che in questo momento stanno chiedendo di adottare orfani ucraini, ma semplicemente non è possibile, perché nel diritto internazionale se c'è una guerra i bambini al massimo possono essere dati in affido temporaneo, al massimo, perché bisogna accertarsi che abbiano degli adulti di riferimento, dei familiari o magari il sindaco del paese, il sindaco di Brugherio che dice che stavano nel nostro istituto e vogliamo continuare a occuparci noi come comunità. Ed è vietato da tutte le convenzioni internazionali firmate tra l'altro dalla Russia. E questo non è avvenuto. Non è avvenuto e sono avvenute le consegne in pubblico dei passaporti. Poi dicono i bambini che sono contenti di diventare russi. Io non entro su questo, dico semplicemente che il diritto internazionale non lo consente. Ora se tu ti vuoi annettere dei territori, vuoi cambiare la cultura dei territori quasi come Pol Pot, cominci l'anno zero di Pol Pot per chi l'ha studiato in Cambogia, era questa roba qui, facciamo un reset e ricominciamo da capo. E dici ai bambini, lasciate perdere quella roba che avete studiato, adesso si studia in questo modo, beh tu non stai semplicemente mirando ad annetterti pezzi di territorio, tu forse stai mirando ad annetterti anche un bel pezzo di futuro. E prima capiamo questa dinamica del conflitto, prima capiamo per quale ragione c'è una popolazione che può piacere o no, non ha nessuna intenzione di essere sottomessa alla Russia di Vladimir Putin. E sottolineo Vladimir Putin perché nelle prime settimane di guerra gli ucraini ci dicevano che il nostro nemico non è la Russia e Vladimir Putin, oggi le cose sono cambiate perché davanti ai crimini di guerra, davanti alle notizie che sono circolate, la popolazione ucraina si sarebbe aspettata maggiore solidarietà alla popolazione russa. Chissà che magari più avanti non saremmo costretti, e io spero magari che sia così, a scrivere che la Russia è stata ed è in realtà una grande prigione a cielo aperto nella quale probabilmente anche chi avrebbe voluto dissentire ha avuto paura di dissentire e chi non ha dissentito molto spesso lo fa perché è frutto di una manipolazione culturale. Parliamo di un paese nel quale ad esclusione di San Pietroburgo e Mosca ci sono le aree nelle quali il 70% della popolazione non ha accesso a internet, nelle quali gli unici strumenti di informazione sono la televisione e la radio di Stato e se tu cresci e per 20 anni e 30 anni e per 40 anni e per 50 anni hai un certo tipo di informazione e poi finisci per credere che davvero il mondo occidentale si è equalizzato perché ti vuole mangiare. Questo è il contesto grande di questo conflitto e io mi scuso se sono noioso delle volte però chiedo sempre a chi mi ascolta un supplemento di pazienza perché la guerra è molto complessa, le guerre sono sempre molto complesse e questa lo è più di molte altre. Grazie, se permetti vorrei chiudere ecumenicamente il quadro di quando le religioni la sparano sbagliata, anche Lutero aveva scritto che chi avesse ammazzato i contadini a rivolta in Altaslesia sarebbe andato in paradiso e però i contadini all'inferno quindi mettiamoci anche i protestanti e chiudiamo questo tragico cerchio. Io volevo sollecitarti invece, non posso non farlo, su una questione che credo stia a cuore a tutti noi e davvero però che è la questione della pace, nel senso che questa guerra è arrivata come un'ammazzata in faccia a noi che siamo cresciuti con gli ideali della non violenza, della pace, che adesso c'è la diplomazia, che adesso c'è la politica, che adesso siamo evoluti come storia della civiltà umana. Ritrovarci in uno scenario in cui la pace e la diplomazia sembrano non avere più né spazio né possibilità e vengono relegate a quello che vengono brutalmente dette le anime belle, quelle che non sanno, che non sono realiste insomma. Ecco io voglio capire cosa ci puoi dire su questo perché è una cosa che credo tocchi molto a fondo ciascuno di noi. Allora io dico subito una cosa così gioco a carte scoperte. Quando io sono in Ucraina e ci sono i bombardamenti, per me sapere che c'è la contraerea che funziona è motivo di relativo comporto. Quindi io questa cosa la dico e conosco tanti amici pacifisti che sono venuti in Ucraina e che vivono in Ucraina, penso ai ragazzi di Operazione Colomba, della comunità di Sant'Egidio e altri, che invitano su questo tema ad articolare il dibattito senza slogan. Perché io di missili ne ho presi tanti, mi hanno anche sparato addosso l'anno scorso durante una diretta televisiva proprio perché non funzionava la contraerea e i soldati ucraini hanno provato a reagire a quattro missili durante una diretta del TG3 delle 19 con Pier Damiani e Dagata, hanno provato a reagire a questi quattro missili sparando all'impazzata con i mitra. Solo che tra i missili e i mitra sul terrapieno c'eravamo noi. Quindi per me è sapere che la contraerea funziona e di conforto. Io ormai ho delle conoscenze lì come tutti e quando suonano le sirene, ormai abbiamo imparato a calcolare il tempo secondo le città, se le sirene suonano a Odessa sappiamo che entro 7-8 minuti succederà qualcosa, che è il tempo medio di percorrenza dei missili dal mare di Azov o dal largo del Mar Nero o dalle basi della penisola della Crimea. E quando dicono 7 missili sono stati abbattuti su 8 e uno no, io dico mannaggia sarebbe stato meglio abbattere tutti e 8. E però quando sento questo dibattito io dico provate a immaginare noi sotto 8 missili che non vengono intercettati. Quindi io su questo divento poco simpatico, poco simpatico anche perché dico se volete che io racconti quello che succede in Ucraina vorrei anche trovarmi in condizione meno insicura possibile, visto che la situazione non è sicura per niente. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il dibattito armi sì armi no mi pare un dibattito interessante fino a un certo punto, perché il problema non è tanto le armi che mandi le armi che non mandi. Il problema è che già da tempo l'Ucraina ci ha messo davanti a una sfida culturale che non abbiamo saputo cogliere. Io per primo. Allora io sono cresciuto con il sogno del disfacimento delle armi nucleari. Basta, un mondo almeno togliamo le armi nucleari. Ce lo siamo detti mille volte, nelle parrocchie, nei centri sociali, nelle associazioni culturali. Dopodiché succede che nel 1991 l'Ucraina era fino al 91 il principale esorbatoio di bombe atomiche dell'ex Unione Sovietica. Parliamo di centinaia, 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 sono numeri giganteschi di testate nucleari. L'Ucraina di allora riceve una proposta e una promessa. Da Stati Uniti, Russia, Nazioni Unite e altri paesi. Poi rinunciate a tutte le armi nucleari, anche perché non avete i missili per spararle, ma questo non vuol dire che non sarebbero stati ingrati nel tempo di costruirsi i missili. Voi rinunciate a tutte le armi nucleari, la Russia si impegna a non aggredirvi mai. I confini sono questi, siamo d'accordo. La Russia non proverà mai ad aggredirvi e in cambio la comunità internazionale investirà nel vostro paese perché abbiate maggiore prosperità e si possa anche ristrutturare il sistema democratico. Perché voi capite che 70 anni di stalinismo, qui siamo ancora a discutere in Italia, di via Rasella. Immaginatevi, voglio dire che è successo un bel po' di anni fa, immaginatevi l'Ucraina che fino all'altro ieri c'ha avuto un certo tipo anche di organizzazione dello Stato e che risente ancora ad oggi di tutti quei problemi che sono la corruzione, la farraginosità, i capi popolo, i capi banda. L'Ucraina che cosa fa? All'epoca decide di condividere questo grande sogno. Lo fa per interesse politico e lo fa perché una parte la popolazione si convince. Rinunciamo a tutte le armi nucleari. Sapete oggi che cosa vi dicono gli ucraini? Vi dicono ma non avremmo fatto bene a tenercene anche una sola di testata nucleare? Vladimir Putin ci avrebbe attaccato se avesse temuto che anche una sola testata nucleare l'avessimo fatta rotolare al di là del confine del Donbass. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per effetto di questa guerra noi per i prossimi 20 anni non possiamo più parlare di disarmo nucleare. Perché ogni volta che proveremo a proporre questo dibattito qualcuno ci ricorderà. Ti ricordi come è finita in Ucraina che si sono disfatti di tutte le testate nucleari? E che gli rispondiamo? Diventa poi un problema in più. Sulle armi quindi c'è un altro tema. La questione delle armi è molto legata al tema dell'embargo. Io non sono stato mai un amante dell'embargo da nessuna parte nel mondo. Anche perché l'embargo non ha mai funzionato. Prendete la Corea del Nord, paese più imbargato del mondo. Ciccio Kim è al suo posto. In Venezuela, l'Iran, Cuba, la Libia. È un elenco infinito. Non mi pare che ci siano state grandi rivoluzioni all'Iran, che adesso si muove qualcosa, ma non per effetto dell'embargo. Però sulla Russia bisogna dire due cose. La prima è che Vladimir Putin ha sempre detto, fino alla settimana scorsa, il vostro embargo ci fa il solletico e soprattutto fa male a voi, perché avrete una crisi economica, l'aumento dei prezzi, bla 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 bla. Però poi ogni giorno chiedeva la cancellazione dell'embargo. Io tra me e me dicevo, ma se gli facciamo il solletico con l'embargo e dice che fa male a noi, dovrebbe dire, embargateci di più, raddoppiate l'embargo, no? E invece chiede di cancellarlo. Quindi forse un po' male gli fa. Però qui dobbiamo essere onesti fino in fondo. In un certo momento dall'Unione Europea è capitato di sentir dire da alcuni leader, l'embargo sta funzionando perché tra le altre cose impedisce a Vladimir Putin di approvvigionarsi di una serie di componenti che servono a assemblare le armi. E scusate però, se le cose stanno così, vuol dire che le componenti gliele vendevamo noi. E che i fornitori principali siamo stati noi. E allora il dibattito diventa anche un altro. Ma se tu vendi armi a qualcuno per 10, 20, 30 anni, ma non ti viene il dubbio che qualche volta potrebbe anche utilizzarle? E magari potrebbe utilizzarle anche contro di te? Per questo, tra l'altro, io invito anche sul tema della soluzione pacifica della guerra, che è un mio grande desiderio e sogno, a fare i conti con la realtà. E la diplomazia prova a fare i conti con la realtà. E cioè, qualcuno di voi conosce una delle guerre di Vladimir Putin, sono una ventina, una delle guerre di Vladimir Putin che si è conclusa con un negoziato di pace che fosse equo per la parte aggredita? Allora, siccome sappiamo con chi abbiamo a che fare, dobbiamo realisticamente dire che il negoziato è molto complicato. È molto, molto complicato. Perché Putin al massimo ci ha insegnato che cosa? Lui gli serve da conquistare Brugherio? Lui conquista Brugherio e anche il paese appresso. Ma tanto a lui gli interessa Brugherio. Dopodiché si apre un negoziato e dice, vabbè, io sono disposto a rinunciare al paese appresso a Brugherio. Questa viene presa per una concessione. Dice, vabbè, lui sta facendo un passo indietro. No? E accordiamoci. Nel frattempo si è presa Brugherio. Allora, voi provate a immaginare a trovarvi voi in questa situazione, o a trovarci noi in questa situazione. Capite che, diciamo, l'idea di diplomazia che qualcuno ha in testa, e cioè fermiamo la guerra così com'è, trattiamo e lasciamo i soldati russi lì dove si trovano, è un po' complicato da far digerire alla popolazione ucraina. C'è un problema nel Donbass? Certo che c'è un problema nel Donbass. C'è un problema di consenso? Certo che c'è un problema di consenso. Il Donbass è stato trascurato anche questo qui per miopia, dal mio punto di vista, anche della leadership ucraina. Perché se tu hai una fascia di paese che tra l'altro ha, questo succede fino al 23 febbraio, un reddito medio molto più basso che nel resto del paese. Escludiamo Mariupol, no? Mariupol c'era l'acciaieria Zovstal che era, diciamo, l'acciaieria che pagava tutto, aveva i servizi più efficienti dell'Ucraina, perché l'acciaieria, adesso non entriamo nel medio delle questioni ambientali, ma probabilmente, come è successo a Taranto, dava lavoro, dava stipendi molto alti, non si va per il sottile sulle emissioni inquinanti, però gli autobus, gli scuolabus, le scuole, le paestri, il lungomare, le spiagge, era tutto finanziato dall'acciaieria. E quindi quello è un caso a parte. Però certo che c'è un problema di consenso e ogni tanto dicono che forse si potrebbe usare per l'Ucraina il modello Alto Adige, cioè abbiamo l'Alto Adige, che i tirolesi chiamano Tirolo, noi chiamiamo Sud Tirolo, che insomma voi capite che è Italia, ma è un'Italia un po' diversa, e che uno dice, vabbè, la riempiamo di soldi quella zona, gli diamo una serie di agevolazioni fiscali, incentivi, facciamo capire a quella gente che vogliamo che stiano con noi, che si sentano italiani, anche se parlano un'altra lingua, e non gli chiediamo di perdere la loro cultura di origine, ma diciamo di sommarla a un'altra e di fare in modo che ci possa essere un contagio positivo. Però ci devi investire dei soldi, anche banalmente dico dei soldi. Questo non è avvenuto nel Donbass e sarebbe costato anche relativamente poco, visto il costo della vita in Ucraina. Ora, io so che diciamo di semplificare. Il punto è che di fronte anche a ragioni legittime che qualcuno può rivendicare, o di fronte anche alla possibilità che una parte della popolazione del Donbass si senta più vicina a Mosca e volesse avvicinarsi a Mosca, essere governata da Mosca, quando tu assisti e documenti i crimini di guerra, il dibattito su ragioni e torti finisce lì. Perché io ricordo quando noi abbiamo raccolto voci, testimonianze e prove sugli abusi commessi dei soldati russi in Ucraina. Ora, attenzione, Amnesty International e l'ONU ci dice che anche ci sono stati degli episodi che hanno riguardato anche soldati ucraini, ma li definiscono episodi, il numero minore, gravissimi, ma è il numero minore. Nel caso delle forze russe abbiamo documentato su larga scala, perché quello che è successo a Buccia, guardate, non solo le uccisioni su cui c'è stato un grande dibattito, ma anche il modo con cui per esempio le donne sono state uccise o che cosa è stato fatto a quelle donne prima di essere uccise, è capitato in molti altri luoghi in Ucraina e capita ancora adesso e siccome avviene a centinaia di chilometri di distanza e non sono più episodi, fanno parte di uno schema. E allora la questione qual è? E' che noi ci dicevano che c'erano episodi che riguardavano anche bambini e donne anziane. Io avevo raccolto delle testimonianze che ho pubblicato, che sono state acquisite dalla Corte Penale Internazionale tra l'altro, sono state ricevute dalla Corte Penale Internazionale e abbiamo provato a mettere insieme i pezzi, con molta prudenza, perché capite che se un giornalista commette un errore su notizie così delicate e poi tutto quello che racconta verrà smontato, perché si dice no, hai dato una notizia falsa su quella roba lì, quindi tutto il resto è falso. Perché voi sapete che in guerra poi c'è propaganda da una parte all'altra e tutti noi commettiamo errori, poi la differenza sta nella buona e nella cattiva fede. Ma il punto lì qual è? E' che a un certo punto arrivano le Nazioni Unite a dire che cosa? Che gli abusi sono stati commessi su una fascia di popolazione di un'età che va dai 4 agli 82 anni. Voi comprendete che qualsiasi ragionamento politico, ideologico, di legittimità, di acquisizione dei territori, di essere filo questi o filo quelli, di fronte a questi fatti non si può più discutere. Non ci deve essere disponibilità a discutere delle ragioni dei torti, perché se io penso di avere ragione rispetto al mio vicino di casa da cui mi sento minacciato e gli distruggo la casa e gli violento la moglie, il giudice farà molta fatica a dire che è colpa del mio vicino di casa, perché rumoreggiava di notte e allora gli ho distrutto la casa e gli ho violentato la moglie, in questo caso pure i figli e pure la nonna. Diventa molto complicato e la faccenda dei bambini purtroppo è l'aspetto più triste di questa vicenda, perché? Per le ragioni che vi dicevo, poi insomma ci sono storie che dovranno essere accertate e per cui veramente il dibattito sulle armi deve tenere conto di tutti questi elementi. E chiudo con un esempio, perché io sono uno di quelli che diceva suonava i Beatles e i Rolling Stones e mettiamo fiori nei vostri cannoni. Il 24 di marzo le forze russe arrivano a Kherson, occupano la città, fanno ingresso nella città, noi abbiamo pubblicato le foto, le trovate su Avvenire, c'erano solo due fotografi in quel momento, due fotografi ufficiali, uno rimane, si nasconde con la moglie e la figlioletta e ogni giorno durante l'occupazione con quel poco di memoria nella SD card della sua microcamera riesce a riprendere alcuni secondi che poi diventano un bellissimo documentario, bellissimo e tragico della BBC, quando poi lui è riuscito a scappare con la famiglia. L'altro fotografo invece scappa senza le foto, senza la macchina fotografica, perché viene a sapere che i russi lo stanno cercando per ucciderlo, perché erano già stati arrestati ed eliminate altre figure. Lui scappa, però prima di scappare riesce a salvare le foto sul cloud, diciamo su Google Drive per intenderci per chi lo utilizza. Noi riusciamo a rintracciarlo dopo settimane, Alexander, viene portato a Odessa, lo portiamo a Odessa, è ospitato da un nostro amico che lo ospita in casa e mi mostra le foto del momento in cui i russi arrivano in città e mi dice mi devi fare una promessa, quando mi uccideranno i russi tu dovrai pubblicare queste foto, io te le consegno. Io guardo le foto e dico una cosa, ma non per cinismo, perché ritenevo che fosse necessario proprio anche giornalisticamente, ho detto Alexander, queste foto dobbiamo pubblicare, per quale ragione? Perché la popolazione di Kherson va incontro ai blindati russi in abiti da festa e indossando gli abiti eleganti e imbracciando non le armi ma mazzi di fiori, non crisantemi o girasoli che hanno un significato anche di un altro tipo in alcune culture, vanno con tulipani e vanno con degli striscioni in cui c'è scritto Kherson e Ucraina, si avvicinano ai soldati perché vogliono offrirgli dei fiori e il senso della loro manifestazione di centinaia e centinaia di persone è tornatevene indietro ma evitiamo spargimenti di sangue, noi ci sentiamo ucraini, non vi vogliamo qui, tornatevene indietro, non vogliamo aggredirvi, non vogliamo spargimenti di sangue, il comandante russo dà l'ordine di sparare ad altezza Duomo, abbiamo pubblicato le foto, quelle pubblicabili naturalmente, in cui si vede diciamo questo corteo e si vede poi il sangue, i proiettili e a quel tempo si riusciva ad avere un minimo di contatto con le forze russe a cui avevamo chiesto un chiarimento, la risposta che era stata data è stata la seguente, abbiamo dovuto reagire al fuoco, di solito vi dico questo, quando sei in un'area di crisi e di solito i soldati attaccano i civili, come succede in israele e come palestinesi per intenderci, di solito la risposta dei comandanti militari è perché in mezzo alla folla c'era dell'agente armata, la folla nascondeva dell'agente armata, quindi siamo dovuti intervenire, qui io mi aspettavo una risposta di questo tipo, la solita balla, invece no, ci dicono abbiamo dovuto reagire all'offesa del gesto di alcune persone anziane, io avevo le foto, c'erano 4-5 anziani che in direzione dei soldati russi svolgevano il gesto dell'ombrello, hanno sparato ad altezza Duomo, ora voi capite che anche quando c'è il dibattito su mettete i fiori nei vostri cannoni, io dico sempre è una scelta personale, io posso decidere di mettere fiori nel tuo cannone e di farmi ammazzare, perché non voglio reagire alla violenza, perché penso che preferisco morire piuttosto che usare un'arma, ma è una scelta personale, è una scelta intima, non puoi tu chiedere a un popolo di fare una scelta di questo tipo, non puoi chiedere a un padre di girarsi dall'altra parte quando entrano in casa tua e hai mogli e figli. E non dico che questi hanno ragione e quelli hanno torto, dico che la guerra ti mette di fronte alla complessità perché è troppo facile reagire con gli slogan, soprattutto le guerre moderne comportano dei problemi in più che prima non c'eravano mai posti, perché le guerre del passato usavano anche armi del passato. Le guerre moderne hanno i droni e i droni ti sparano e non gliene frega niente di morire al drone, ti viene addosso e tu hai bisogno di difenderti dal drone che ti piomba addosso. E il drone tra l'altro ha un effetto terribile anche sulla morale, perché se tu abbatti un drone hai fatto il solletico al nemico, perché gli hai abbattuto un giocattolo di metallo, non gli hai ucciso dei soldati. In questa guerra convivono entrambe le tragiche esperienze della morte sul campo di battaglia, della morte dei civili nei luoghi di combattimento e anche naturalmente della guerra moderna fatta di alta tecnologia, di droni, la guerra che può sembrare asettica e priva delle ferite che sono soprattutto ferite dell'anima. Perciò il mio invito tante volte è a considerare sempre questa complessità. E la speranza, se devo dire una speranza, è che a un certo momento si comprenda che non può essere la guerra la soluzione a quello che sta accadendo. però sapete, se uno considera a torto o a ragione, considera chi ti arriva sul terreno come un rapinatore che ti entra in una banca e tu per dire al rapinatore di smettere di sparare dici ok, smetti di sparare però resti nella banca. E non è esattamente quello che diciamo un polizzotto o un carabiniere vorrebbero fare. E in Ucraina la presenza dei russi, quando si dice che servirebbe un cessato il fuoco, sì, cessato il fuoco ma se ne devono andare, perché se c'è il cessato il fuoco e si rimane sul terreno non cambia niente. E quindi la guerra purtroppo ha questa complessità e questo schifo, perché va detto, e io sono molto preoccupato per quello che accadrà nelle prossime settimane, tornerò in Ucraina penso fine aprile, inizio maggio, perché la guerra è fatta anche di meteorologia e noi queste cose le sottovalutiamo. E meteorologia vuol dire che il terreno si asciugherà, non ci sarà più fango, si seccherà, sarà compatto e quindi si potrà tornare a combattere anche a cento metri di distanza un fronte contro l'altro. E io non credo che abbiano intenzione di fermarsi né da una parte né dall'altra. Grazie, intanto vi invito a preparare delle domande, intanto vi avviso che il libro di Nello Scavo è in vendita qui all'ingresso, così come è disponibile una bibliografia preparata dalla biblioteca per approfondire con vari strumenti informativi questo problema. Mentre preparate le vostre domande io faccio un'ultima mia provocazione, proprio a te che hai camminato su tante aree di crisi, dalla Libia, alla rotta balcanica, alla Siria, hai provato a unire i puntini, come ti suol dire, insomma. Che immagine ti sei fatto di questo mondo? Questa cosa di unire i puntini mi perseguiterà per tutta la vita, perché una volta ho detto una roba per spiegare come cerco, perché è successa una cosa strana, alcuni anni fa un'importante università di giornalismo americana, la più importante al mondo, mandò dei ricercatori a capire quale fosse il mio metodo di lavoro, perché erano sorpresi dalla sequenza di scoop, che è una parola che a noi piace molto, che non hanno prodotto grandi ricadute, perché in altri paesi sarebbero cascati i governi, invece in Italia no. E anche perché, diciamo, il mio lavoro trasversale, nel senso che i miei primi guai non sono cominciati quando al governo c'era il centrodestra e sono continuati poi anche col centrodestra, diciamo, con i cinque stelle, tutto un po' scombinato, però l'Italia è un paese complicato e questo forse ci ha allenato meglio di altri a capire la guerra in Ucraina, ve lo dico senza ironia. Ho provato a dire che uno dei problemi tante volte è che noi subiamo un tale bombardamento informativo, per cui i giornalisti hanno bisogno dello scoop, cioè cercare la notizia inedita, il fatto nascosto, che tutti vorremmo trovare, quando in realtà è un po' come il gioco di unisci i puntini nell'enigmistica, che è il gioco più facile di tutti. Io di solito dopo il cruciverbo 1 verticale, 2 orizzontale, a 3 verticale capisco che il ragazzo deve studiare di più, come mi dicevano a scuola, può impegnarsi di più e allora passo a unisci i puntini, perché unisci i puntini aiuta a sentirti un po' meno scemo, anche se in realtà ti senti un po' più scemo, perché non fai altro che collegare questi numeretti, però alla fine quando l'immagine si è composta, poi sì che ti senti un po' scemo perché dici però guarda, in effetti era tutto sotto i miei occhi, però non riuscivo a mettere in ordine. Io penso che il giornalismo oggi sia soprattutto questo e certo c'è provare a trovare documenti segreti, qualche volta ci capita, è sempre interessante e anche entusiasmante qualche volta, però provare anche a mettere ordine tra le cose, perché abbiamo tante informazioni che delle volte non ci servono e altre che invece ci servono ma non riusciamo a collegarle. Nel caso di questa guerra a me è sembrato abbastanza evidente, faccio un esempio, perché che dico le ricadute culturali? A un certo momento succede che ai confini tra Ucraina e Polonia in particolare arrivano milioni e milioni di persone e si creano due file, c'è una fila dove sono tutti bianchi con gli occhi azzurri disperati e c'è una fila invece con gente che ha gli occhi a mandorla, la pelle scura e dici ma che sta succedendo? Era successo che le autorità polacche, ma è successo anche in altri paesi, hanno detto no, quelli sono ucraini, quindi sono proprio chi di guerra. Quest'altri sono subsahariani, studenti, operai orientali, latinoamericani, dobbiamo verificare se hanno diritto allo status di rifugiato. E' dovuto intervenire il governo ucraino nella persona tra l'altro del ministro degli esteri Kuleba, che non è proprio un diplomatico dal cuore tenero, il quale ha dovuto ricordare alla Polonia e all'Europa che chiunque scappa dall'Ucraina sta scappando da una guerra, qualunque essere umano, di qualsiasi nazionalità. E allora io mi domando, nel 2022, eravamo al 2022. Pensavo alla Convenzione di Ginevra dei diritti dell'uomo, si chiama di Ginevra, quindi in Europa. Pensavo allo Statuto di Roma, che è l'atto fondativo della Corte Penale Internazionale. Pensavo alle giornate della memoria, no? Ma cos'è successo in questi 70 anni per cui in Europa a un certo momento si decide che uno che ha un colore della pelle diverso, anche se viene e scappa dallo stesso bombardamento, ha meno diritto di un altro di mettersi al sicuro? Che cos'è che può far credere a un esponente politico che le bombe sappiano distinguere un bianco da un nero e siano fatte per colpire solo i bianchi, in quel caso in Ucraina, e invece i neri no. E allora perché dico uniamo i puntini? E perché se uniamo i puntini poi arriviamo al Mediterraneo, arriviamo alla rotta balcanica, arriviamo alle crisi di questi anni, che ci hanno abituato talmente tanto a distinguere tra un essere umano di serie A, uno di serie B, uno di serie C, per cui tu sei profugo ma fino a un certo punto. Negli stessi giorni in cui si svolge la guerra in Ucraina, che cosa accade? Anche qui memoria corta, pochi mesi prima scappiamo tutti a gambe levate dall'Afghanistan. Non dico che è stato un bene o un male fare la guerra in Afghanistan, non do un giudizio di valore. Diciamo che a un certo momento l'abbiamo persa sta guerra, dovevamo andare lì per dare democrazia, prosperità, stabilità, è andata male. Anche con le migliori intenzioni è andata male. Succede che la più grande coalizione militare che la storia abbia mai visto, perché in Afghanistan c'erano dagli australiani agli americani agli italiani ai tedeschi, c'è gente che una volta si faceva la guerra e si scannava, invece finalmente lì si ritrova perché bisogna far fuori sti talebani che sono brutti, cattivi, ignoranti, dobbiamo toglierli di mezzo. Succede che invece i talebani vincono, anche se non l'abbiamo raccontata esattamente così e ce ne dobbiamo andare. Perché è andata così? Succede che eravamo tutti commossi davanti alle immagini di questi profughi attaccati agli aerei, vi ricordate quelli che cascavano dagli aerei? Vi ricordate la commozione generale in Italia quando il giovanissimo console italiano in cima al muro perimetrale all'aeroporto di Kabul tirava su quanta più gente poteva per portarla sugli aerei e salvare quanti? Qualcuno in quel momento ha avuto dubbi che si dovessero salvare oppure no gli afghani? Quegli afghani adesso sono sulla rotta balcanica dei profughi e però si dice no, vi aspettano le manganellate, qui non ci potete stare, ma sono rimasti per 5, 10, 15, 20 anni nei campi profughi in Iran e in Turchia. Quando la più grande e più potente coalizione militare che si sia mai vista perde la guerra con i talebani, ma secondo voi i profughi che stanno nelle tende o che fanno dei lavoretti e si arrangiano da qualche parte dicono vabbè adesso ci vado io faccio un mazzo così ai talebani? E no, dice forse è meglio che me ne vado da quelli che la guerra l'hanno fatta per liberarci, non ci sono riusciti però almeno magari capiranno perché loro l'hanno vissuto sulla propria pelle che cosa vuol dire l'Afghanistan? E invece la guerra in Ucraina ci ha messo davanti a questa contraddizione e su cui non ci interroghiamo abbastanza, cioè che cosa è successo nella nostra testa, nel nostro DNA, nella nostra cultura per poter dire che quello lì non ci ha diritto di essere salvato? Sì lo so, dice che non c'è da mangiare per tutti, non c'è posto per tutti, tutti i discorsi che possiamo fare, guardiamo i numeri per carità, poi mi fa anche un po' sorridere perché l'Europa dei 27 paesi, non più diciamo 28, 400 milioni di abitanti, l'Europa politica, l'Europa fisica molti di più, 400 milioni di abitanti riescono ad accogliere milioni di ucraini, non mi pare che sia successo, sì lo so che c'è un'affinità culturale, è tutto diverso, però quando io sento questi numeri, dice stanno arrivando a 100 mila profughi, però capito, si ha 27 paesi, 400 milioni di abitanti, facciamo 5 mila per uno, problema risolto e nel frattempo magari succede che, mentre, attenzione, contraddizione è la contraddizione, questa cosa vogliono farmela pagare ma ve la dico, allora la Corte Penale Internazionale, l'AIA, emette il mandato di cattura per Vladimir Putin e per la signora Lova Belova per i crimini di guerra, in particolare sui bambini, ok. C'è stata, mi sembra, una specie di acclamazione che ho letto in tanti per questa misura, finalmente un po' di giustizia, magari il processo non si farà mai, perché il processo si svolge solo se l'indagato è presente alla Corte Penale Internazionale, se non si arresta Putin niente processo, come era successo per il Presidente sudanese Omar al-Bashir e per il colonnello Gheddafi, però nessuno di loro è rimasto al potere, perché comunque il mandato di cattura significa che poi il tuo potere comincia a allogorarsi, quindi per Putin chissà che già non stia cominciando qualcosa e ho in questo senso delle sensazioni, non sarà una cosa breve, ma non sarà neanche una cosa facile e neanche indolore, ma non è anche inevitabile che lui resti al potere ancora per molti anni. Però la Corte Penale Internazionale ha aperto un fascicolo di inchiesta anni fa sui crimini commessi in Libia. Ci sono degli indagati sotto segreto al momento, da quello che sappiamo qualcuno di questi indagati, diciamo che potrebbe avere avuto rapporti con l'Italia e con l'Europa e magari è stato finanziato o legittimato politicamente. Questo non crea imbarazzo a nessuno. Pensate che noi chiediamo da tempo l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia dei trafficanti di uomini, non solo gli scafisti che vanno arrestati, processati, ma sono l'ultima ruota del carro e spesso non sanno manco chi è il capobanda. Abbiamo scoperto, perché l'abbiamo chiesto, che le organizzazioni umanitarie che sono accusate di varie cose sono disponibili a farsi indagare dal Parlamento italiano. Dico sì, apritele a una commissione di inchiesta come per la commissione parlamentare antimafia e indagate noi. Noi ci facciamo processare dalla politica italiana, ci convocate in Parlamento, ci interrogate, avete a disposizione strumenti investigativi, non abbiamo nessuna difficoltà. La commissione non si fa. Perché il Parlamento dovrebbe forse processare se stesso a un certo momento? Perché alcune di queste persone le abbiamo incontrate, le abbiamo accolte, le abbiamo finanziate e legittimate. Allora, se la Corte Penale indaga su Vladimir Putin, applausi. Se la Corte Penale apre un'indagine su che cosa è successo sui diritti umani in un certo territorio e se magari questa cosa ci riguarda in qualche misura, è meglio tenere la notizia il più possibile nascosta. Io penso, per questa ragione dico che la guerra ucraina è così importante, non solo per quel quadrante, ma soprattutto per noi. Soprattutto no, lo tolgo, perché soprattutto per gli ucraini. Ma certamente per noi. Perché ci mette davanti alle nostre contraddizioni. Dal modo con cui usciremo da questa guerra, non solo dal modo, dagli argomenti, dal negoziato, ma anche dalla modalità culturale con cui affronteremo il dibattito sul dopo questa guerra, dipenderanno probabilmente i prossimi 100-200 anni del nostro mondo. Se saremo disposti a mettere in discussione in crisi anche una serie di assunti che abbiamo dato per scontati, probabilmente ne usciremo anche più forti. Se invece diciamo no, tutto rimane così com'è. Beh, insomma, stavolta ha toccato, prima è toccato ai nordafricani, poi gli afghani, poi è toccato agli ucraini, non vorrei che si dovesse arrivare più vicino per capire che le cose non stanno come pensiamo. Grazie. Bene, io aprirei, accogliamo qualche domanda magari insieme. Abbiamo un microfono gelato. Là c'è una domanda, adesso arriva il microfono. Usate il microfono che siamo anche in diretta streaming. Usiamo questo, va bene. Prego. Buonasera. Volevo due cose. La prima, secondo lei, qual è il momento esatto in cui Putin ha deciso di invadere e il perché? E secondo lei, visto che è un operatore di area di crisi, si avevate già sentore da un po' di tempo che questo potesse accadere. Grazie. Grazie, ne raccogliamo un paio. C'è qualcun altro? Prego, accenda. La mia vicina di casa, adesso che è morta, era di Cernobil, Ucraina. Cernobil, sì. Ucraina. A vent'anni, nel 1940, è finita in un campo di concentramento. Mi ha poi detto, quando è arrivata, che era stata denunciata dai nazisti. L'ho persa poi dopo per tutta una serie di cose. Però, siccome sento dire che il Donbass è dal 2014 che viene bombardato, eccetera, eccetera, e mi ha fatto anche un esempio, dicendo che in Italia c'è la parte italiana, ma c'è anche il Sud Tirolo, che è un po' diverso. Allora, questa diversità, chiamiamola territoriale e di popolo, ha creato delle forme di antagonismo come da noi il terrorismo o no? E in particolare a questo punto, visto che lei è un giornalista che segue le guerre, sa di giornalisti che in questo lasso di tempo, dal 2014 in poi, sono stati sul campo a testimoniare se c'è stato qualcosa nel Donbass. Perché a me dicono, qualcuno dice, che lì si sta bombardando a tutto spiano. Quindi la situazione non è diversa dall'Ucraina. Questo un po'. Grazie. Grazie. Rispondo a queste domande. Vi ringrazio per averle poste. Quando Putin ha deciso di invadere, è molto difficile affermarlo con certezza. Io ho idea che i piani fossero stati programmati da lungo tempo. Perché il fronte, pensate che nei primissimi giorni di guerra, il fronte superava i 1500 km. Se voi pensate all'ingresso dalla Bielorussia fino all'area, dovete provare a immaginare un arco che va da Kiev, dal nord di Kiev, quindi il confine con la Bielorussia, tutto il confine russo e giù fino alla Crimea. E subitaneamente entrano decine di migliaia di uomini e i colpi vengono sparati lungo tutto quell'arco. Però ci sono altri elementi molto trascurati. Uno in particolare, lo abbiamo scoperto ad aprile dello scorso anno, ed è questo. Succede che i servizi segreti olandesi arrestano uno stagista della Corte Penale Internazionale, L'AIA. Uno stagista brasiliano. Perché lo hanno arrestato? Perché hanno scoperto che si trattava, poi abbiamo ricostruito la sua storia, ed è anche molto interessante, si trattava in realtà di un agente segreto russo, circa otto anni prima, poiché figlio di un russo e di una brasiliana, circa otto anni prima si era trasferito in Brasile, approfittando del passaporto brasiliano. Lì aveva costruito un percorso di studi, di lavoro e di affetti, che gli serviva per corroborare una narrazione intorno alla sua vita. Grazie a questo lui si candida come stagista alla Corte Penale Internazionale e successivamente sarebbe stato assunto dalla Corte Penale Internazionale. Per la Corte dell'AIA si trattava di un brasiliano con un cognome russo, come ci sono moltissimi cognomi russi in Brasile o italiani o di altri paesi, in Argentina è lo stesso, quindi nessuno si sorprende se dalla Russia arriva uno col passaporto brasiliano e ha un cognome di un altro paese. Il curriculum era corrispondente, la sua storia reggeva benissimo perché le sue amicizie, i suoi contatti, i suoi insegnanti, i suoi affetti erano esistenti e in realtà era appunto un agente segreto russo. Ora voi pensate che cosa vuol dire programmare molti anni prima la vita di una persona che decide di lasciare la vita di prima, si trasferisce in un altro paese, vive in quel paese, cerca di non lasciare più tracce della sua vita precedente, si costruisce sostanzialmente una nuova identità, un nuovo passato perché deve infiltrarsi dentro la Corte Penale Internazionale e per quale ragione Vladimir Putin ha bisogno di un informatore dentro la Corte Penale Internazionale visto che la Russia non aderisce alla Corte Penale e l'AIA. Questa è una delle grandi domande di questo conflitto che mi fa pensare che non si è trattata di un'improvvisata, di una notte, ma che tutto fosse stato preparato per tempo e poi c'è un altro elemento, nel libro lo racconto, che alcune settimane prima della guerra Putin parla con due leader mondiali particolarmente importanti e voi sapete che diciamo tra leader politici, non parlo di leader della politica italiana, parlo diciamo di capi di Stato per intenderci, non ci si racconta bugie, questo non vuol dire che ci si racconta la verità, ma casomai non si racconta tutta la verità o si omettono una serie di informazioni, perché se io racconto una balla a un mio partner o anche a un mio avversario, il giorno in cui è dimostrato che si è trattato di una bugia, gli ho fornito un motivo in più per venirmi addosso, politicamente, finanziariamente e militarmente. Vladimir Putin dice a questi due leader politici io devo intervenire nel Donbass, devo intervenire nel Donbass perché i nazisti ucraini stanno dando fuoco alle chiese ortodosse. Questi due leader hanno smosso le loro fonti sul campo, non solo quindi i fonti ucraine ma anche i fonti della propria intelligence, nessuna chiesa ortodossa era stata incendiata fino a quel momento e dunque loro capiscono che l'intenzione di Putin è quella comunque di allargare il fronte, non limitarsi più allo scontro nel Donbass e rispondo in parte all'altra domanda che era in corso dal 2014, perché aveva altre mire e del resto io dico non è che se uno si vuole prendere il Piemonte o il Veneto bombarda anche Palermo, perché noi dobbiamo avere in testa le distanze, l'Ucraina è un paese grande, tre volte l'Italia e tu bombardi Kiev che sta a mille rotti chilometri dal confine con la Russia e soprattutto dal Donbass, non ha nessun senso, lo stesso Leopoli addirittura al confine con la Polonia o paesi del sud dell'Ucraina che confinano con la Romania. Che senso ha da un punto di vista militare se voglio conquistare solo un'area? Se avevamo cento ore, insomma io dico che noi da giornalisti abbiamo molto trascurato quello che è avvenuto in questi anni, però chi ha seguito le guerre di Putin? quando abbiamo visto nel 2014 l'annessione della Crimea e nessuno ha aperto bocca su questo, probabilmente bisognava accorgersi allora che stava succedendo qualcosa e che forse non si sarebbe fermato solo alla Crimea. Però qui c'è un episodio collegato perché a un certo momento Putin diventa il nemico necessario perché ci fornisce il gas, ci fornisce gli idrocarburi, si fanno degli accordi, accordi unilaterali, intendo dire l'unilaterali che cosa? Cioè lui diventa il fornitore unico per esempio di paesi come l'Italia. C'è un'intervista di alcune settimane fa di Mario Draghi che tra le altre cose dice al Corriere della Sera tra le altre cose dice beh all'epoca l'Italia sceglie di rifornirsi esclusivamente dalla Russia anziché diversificare l'approvvigionamento di idrocarburi. Perché l'Italia sceglie di approvvigionarsi esclusivamente alla Russia e diventa dipendente dalla Russia e aggiunge Draghi questo è un aspetto che andrebbe approfondito. Un paese serio un minuto dopo che un ex presidente del Consiglio fa un'accusa di questo genere lo convoca in Parlamento e dice scusa vuoi spiegarci meglio che cosa intendi? E magari poi ci fa anche una commissione di inchiesta. Però lì poi la faccenda diventa molto complicata perché poi tra l'altro all'epoca il referente di una delle aziende italiane che firma i contratti con la Russia poi si scopre incontrare per quattro volte il mandante maltese un finanziere maltese dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia che aveva scoperto affari sporchi intorno all'approvvigionamento di idrocarburi da parte di Malta che avrebbe dovuto servire poi una parte dell'Europa altro che unire i puntini riguardo diciamo alla faccenda che segnalava prima il Donbass c'era la guerra da otto anni l'ho scritto subito in uno dei primi reportaggi da Kiev dicendo beh puoi col cavolo parlare di guerra col cavolo si può dire in streaming non lo so che si parli di guerra a bassa intensità nel Donbass ci sono stati 14.000 morti va detto che di questi 14.000 morti circa due terzi da quello che sappiamo sono delle stime sono militari di una parte dell'altra quindi comunque moltissimi moltissimi civili è una guerra che è stata seguita poco e male è morto un giornalista italiano Andy Rocchelli nel 2014 e non si è avuta giustizia per questa uccisione il tribunale italiano ha indicato le forze ucraine come responsabili dell'omicidio di Andy Rocchelli che si trovava tra l'altro con un dissidente russo Andrei Mironov lo segnalo sempre questo perché ogni tanto si fa qualche polemica dice no ma siccome Rocchelli stava nel Donbass vuol dire che era filo russo no attenzione Rocchelli faceva il suo lavoro di fotoreporter eccezionale e di grande talento e certamente non sarebbe andato nel Donbass con un dissidente anti Putin se fosse stato filo russo faceva il suo lavoro di giornalista che in quel caso documentava i colpi da una parte dall'altra e come le forze ucraine non andassero troppo per il sottile per esempio in alcuni momenti la guerra è una cosa brutta è una cosa terribile e molte cose andranno accertate però col senno di poi dopo devi anche vedere i risultati sul campo e quanto ai giornalisti cosa ci sono giornalisti che hanno lavorato molto bene alcune serie fa ho presentato un libro di Luca Steinman che era giornalista italiano che era ammesso sul fronte russo e che non so se potrà più tornare in Donbass sul fronte russo perché quando poi esprimi qualche critica non ci puoi più mettere piede e ci sono altri giornalisti che seguono il Donbass da molto tempo ma su di loro non voglio dire nulla grazie vediamo se ci sono altre domande pubblico timido qua prego c'è anche no volevo dire che nella complessità di questa guerra abbiamo parlato di tutte le varie nazioni ma c'è anche un'influenza degli Stati Uniti che con molta forza sta appoggiando queste azioni e ultimamente Putin ha detto chiaramente che per lui è una guerra tra Stati Uniti e Russia quindi si sta allargando come se l'Ucraina fosse diventata improvvisamente l'ombelico del mondo ecco volevo sapere cosa ne pensa su questo grazie penso che sia così che c'è un'influenza importante pesante per certi aspetti da parte degli Stati Uniti anche prima della guerra bisogna però dire che la risposta di Vladimir Putin non lo mette in una posizione diciamo di luce rispetto a quello che sta accadendo cioè lui può anche dire e noi possiamo anche essere d'accordo che questa guerra parzialmente può essere considerata una guerra ibrida come dicono quelli bravi cioè una guerra che si combatte in Ucraina ma che in realtà rappresenta altri interessi però non dobbiamo mai dimenticare se vogliamo essere diciamo democratici fino in fondo che cos'è l'opinione delle popolazioni questa idea per cui gli Stati Uniti manipolano l'Ucraina e Zelensky non dico che lei sostenga questo è per capire qual è il dibattito gli Stati Uniti manipolano l'Ucraina Zelensky è un pupazzo nelle mani degli Stati Uniti e Zelensky manipola un popolo bisogna andare in Ucraina per rendersi conto che è un paese dove ci sono problemi di informazione in Ucraina certo che ci sono non era ai primi posti della libertà di stampa l'Ucraina manco l'Italia però ci sono i problemi seri c'è la legge marziale che autorizza i governi a intervenire con la mano pesante sull'informazione e devo dire che mi è venuto così la curiosità di leggere la legge marziale italiana casomai entrassimo in guerra non è molto diversa anzi è pure peggio per certi aspetti non lo dico per giustificare quello che accade ma per capire il contesto però proprio perché sei lì e vedi che i giovani parlano due terzi dei giovani parlano in inglese corrente fluente scusate e neanche in Italia diciamo mai questa percentuale CISinfo internet è aperto perché Elon Musk ha messo a disposizione i satelliti dal punto di vista giornalistico è stata una guerra facile da seguire facile intendo perché il nostro dramma è trasmettere il pezzo trasmettere il servizio una guerra in cui quasi mai abbiamo avuto problemi di trasmissione ci sono stati ma non sono stati insormontabili e quindi la popolazione ucraina ha accesso diretto a informazioni anche dall'estero di chi dall'estero può dire ci sono dei problemi gli americani così gli americani colà allora immaginare che ci sia un'intera popolazione stupidita che dice andiamo a combattere perché ce lo dice Zelensky si fa torto all'intelligenza di un popolo anche alla cultura di un popolo che comunque ha studiato e che ha una sua diciamo forma mentis che può anche sembrarci incomprensibile qualche volta anche irrazionale però ce l'ha la devi conoscere la devi ascoltare e con questa ti devi misurare ripeto il nostro errore è stato all'inizio provare a decifrare la guerra attraverso i nostri occhiali e invece devi metterti nelle scarpe degli altri non solo nei vestiti nelle scarpe degli altri per capire che cosa sta accadendo ad agosto dell'anno scorso mi ricordo a Odessa ci fu una chiamata alle armi per 200 persone si sono presentate in 2000 adesso non è più così ci sono dei problemi anche in Ucraina tant'è vero che si prova a incentivare l'arrulamento perché? perché la guerra stanca perché le famiglie sono separate soprattutto chi ha le famiglie in Europa e però bisogna entrare dentro diciamo ai conflitti e a questo genere di conflitti per capire che ci troviamo di fronte a una guerra diversa da tutte le altre e che c'è una popolazione che ha conoscenze di tutto quello che accade delle volte gli dici ma pensate inverno avevamo momenti in cui meno 15 gradi non c'è elettricità non c'è il gas poi pensate un catanese in Ucraina in guerra a meno 20 no? ho preso il covid in Ucraina e allora tu dici ma non siete stanchi? ma oggi manca l'acqua corrente non c'avete il riscaldamento e ti dicono siamo stanchi siamo sfiniti dico beh quindi adesso vi fermate e provate a negoziare no no siamo stanchi ma non ci arrendiamo perché sappiamo che cosa vuol dire la Russia con una certa testa sappiamo cosa vuol dire Vladimir Putin meglio morire che trattare è un bene o un male è giusto o sbagliato ognuno si fa le sue si faccia le proprie idee ma questo è un dato di fatto e se non ci misuriamo con questo dato di fatto anche tutte le nostre idee pacifiste vanno a infrangersi a Micolaiv ci sono questi ragazzi di Operazione Colomba che vivono da pacifisti insieme alla popolazione ucraina e si beccano le bombe gli spaventi assistono la popolazione civile e c'è un comandante partigiano si chiama Kovalenko ormai il nome è noto perché l'ho scritto e lui mi aveva permesso di scriverlo che ha la sua squadra di ex dipendenti suoi perché lui in realtà era un impenditore edile che organizza la sua squadra di partigiani e lui regolarmente passa a controllare come stanno i ragazzi italiani i pacifisti italiani e lui dice io lo so che loro sono contro la guerra e contro l'uso delle armi ma sono qui con noi sono qui a rischiare la vita con noi sono in mezzo alla nostra gente e quindi meritano il nostro rispetto la nostra gratitudine e la nostra assistenza tanto che lui mi ha detto ogni tanto mi manda dei messaggini i tuoi ragazzi non so perché dice i tuoi ragazzi forse perché io sembro vecchio e parlo italiano i tuoi ragazzi stanno bene io sono sempre in contatto con loro naturalmente adesso in questi giorni è tornata la carovana della pace però con un atteggiamento come dire di chi si mette nella dimensione dell'ascolto di una popolazione è certo che c'è un problema nel Donbass e che c'è rispondo ancora alla domanda di prima una parte diciamo di popolazione che si sente più vicino alla Russia e mica questo ce lo nascondiamo però nel tempo sta anche cambiando molto la percentuale perché conosciamo molta gente del Donbass che dice però se il nostro liberatore ci bombarda e ci distrugge le città non è meglio che finisca la guerra e ragioniamo in un altro modo e pensate che durante il referendum farsa che c'è stato sul Donbass noi abbiamo trovato diciamo le regole per i referendari cioè non solo i militari per facilitare l'espressione del voto andavano casa per casa col mitra quindi voto libero ma addirittura per facilitare per esempio venivano regalate le scarpe nuove scarpe da ginnastica nuove che andava a votare ora se tu pensi di avere il consenso non hai bisogno di corrompere no? queste cose si facevano no? con il giochino della busta in Sicilia in Calabria succedevano cose strane in passato no? manco tanto in passato dalle mie parti una volta c'era un candidato sindaco adesso non voglio il sindaco qui per carità che però dava 50.000 lire per ogni voto e però ti consegnava le 50.000 lire le tagliava con la forbice metà le dava a te metà le teneva a lui una volta che il sindaco veniva eletto numero di matrice di matricola e consegnava il resto poi venne arrestato successo in provincia di Catania e e quindi diciamo è una faccenda complicata 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 e e non si risolverà diciamo nell'immediato io un pensiero lo voglio rivolgere ancora una volta al futuro perché sapete noi abbiamo quest'idea che le guerre finiscono quando noi pensiamo che siano finite no? hanno firmato trattato di pace la guerra è finita e noi invece abbiamo ed è anche colpa nostra per aver rimosso la memoria della guerra dal nostro dibattito culturale se volete anche domestico del focolare non si parla più delle guerre eppure sono sicuro che qui c'è gente che ha sentito dai nonni o dai conoscenti che cos'è la guerra forse qualcuno l'ha vissuta anche e e vi faccio due esempi il primo riguarda i bambini i bambini i bambini ucraini che si sono separati dai papà questa cosa la racconto spesso quindi mi scuso se me l'avete già sentita dire in qualche modo o l'avete letta e i bambini più piccoli soprattutto la fascia d'età diciamo da 1 a 4 anni quella fascia d'età in cui hai una paura bestiale perché senti la paura dei grandi capisci che sta succedendo qualcosa ma non sai esattamente che roba è capisci solo che deve essere qualcosa di terribile e quando sei così piccolo di solito per esempio di notte quando un bambino ha paura che ha gli incubi arriva Superman Superman di solito è il padre cerco di facilitare il padre è Superman perché ti prende in braccio ti goccola quando caschi impari a fare i passi la madre di solito è preoccupata il padre è quello che dice no dai riproviamoci è quello che ti insegna a stare in bicicletta e stai sulle spalle del papà pensando che sia il posto più sicuro del mondo nonostante le mamme pensano delle volte che sia il posto più pericoloso del mondo non penso che sia una fisima solo di mia moglie questa quando mio figlio me lo tenevo sulle spalle dice oddio il bambino non è che casca il bambino non casca lo tengo non casca però le mamme sentono questa preoccupazione i bambini si sentono nel posto più bello e più sicuro del mondo succede però che per effetto della guerra i bambini con le mamme se ne vanno per mettersi al sicuro ma i papà non se ne possono andare noi abbiamo visto raccontato e l'avete vista voi anche queste immagini dei bambini che scalciano contro il papà chi si aggrappa alla barba ai vestiti del papà e che sono arrabbiati con il papà perché scusa nel momento in cui io ho più paura tu resti a casa e io devo andare con la mamma con la nonna con le vicine vado in un paese straniero in mezzo alla neve dove c'è gente che parla un'altra lingua e manco so chi sono e ha voglia la mamma spiegarti che papà resterà a casa perché combatterà contro i cattivi perché proteggerà i tuoi giocattoli proteggerà la casa quando tutto sarà finito torneremo e ci ritroveremo insieme no non funziona il bambino avrà sempre il dubbio che c'è qualcosa che non torna questi bambini stanno stanno tornando a mano a mano e voi pensate che cosa vuol dire ricostruire un rapporto di fiducia col padre no una volta che torni a casa certo i bambini lo superano subito apparentemente ma se dovessero scappare una seconda volta e c'è chi è scappato per la seconda volta soprattutto d'inverno a causa del freddo perché a un certo momento le autorità ucraine hanno detto se avete la possibilità di andare via andatevene voi provate a immaginare che cosa vuol dire per questi bambini crescere col dubbio ma se capita di nuovo qualcosa di pauroso superman che fa mi abbandona di nuovo oppure no poi certo crescendo da grandicello capirà però intanto questo rumore di fondo lo avrà attraversato e pensate a quei bambini che tornando a casa il papà non lo troveranno la guerra può finire anche in questo momento poi magari fra trent'anni succede che uno una mattina esce di casa con un mitra ammazza i vicini di casa e noi giornalisti scriveremo una lite per futili motivi come succede molte volte poi vai a scavarci dentro e scopri che c'è qualcos'altro che ha condizionato nel tempo e più che il problema è stato magari il volume alto della televisione al vicino di casa ma c'era qualcos'altro che probabilmente ha scavato come un fiume carsico per tutti questi anni e io penso che la guerra serva a raccontarla anche così anche attraverso queste storie descrivere queste storie perché ci fa capire quale sarà il dramma anche del dopo e chiudo con un esempio che è un esempio che mi riguarda perché a marzo tornando dall'Ucraina la prima volta vado a comprare il nuovo giubbotto antiproiettile perché non so se sapete che le piastre d'acciaio dei giubbotti antiproiettile sono di acciaio balistico e hanno una scadenza quindi sì come come il salame e quindi la mia piastra era scaduta e quindi vado a comprare il nuovo giubbotto contento uno che stava anche bene a me che insomma che non sono proprio Schwarzenegger quindi lo sistemo con la scritta press staccabile perché in alcune aree non devi far vedere che sei un giornalista perché i cecchini possono sparare ai giornalisti nonostante noi dovremmo in teoria essere protetti dal diritto internazionale e quando sono andato a comprare il giubbotto il venditore mi ha raccontato una storia ero sul Lago Maggiore è un fornitore della Nato tra l'altro e mi dice che lui ha smesso di vendere armi ma vende solo mezzi diciamo strumenti di protezione perché da bambino con i suoi cuginetti torturava un po' il nonno che aveva partecipato alla campagna di Russia che chiamiamo campagna di Russia ma che in realtà la grande ritirata è avvenuta attraverso i territori che oggi sono l'Ucraina perché da Rostov sul Don attraversano queste regioni che oggi sono le aree di combattimento e torturavano il nonno e il nonno poi non voleva parlare della guerra non voleva parlare della guerra ai nipoti sembrava comunque una grande avventura insomma al nonno soldato che combatte così il nonno smette di parlare della guerra e i nipoti smettono di fargli domande crescono e dicono meglio non chiedere nulla al nonno anche perché lo vediamo contento sereno felice e la guerra gli apre le ferite ricordare la guerra quindi basta non si parla più della guerra finito quindi la guerra sparisce dall'orizzonte di quella famiglia poi il nonno muore e in punto di morte con i nipoti intorno molti anni dopo l'ultima domanda sulla guerra muore lui più che novantenne con i nipoti intorno e gli altri familiari dice in lacrime non ho dimenticato un solo giorno della mia vita il rumore dei miei passi sui cadaveri dei miei compagni questo vuol dire che quest'uomo è stato torturato da questi ricordi per decenni decenni e decenni ora io penso che noi dico come comunità anche nazionale avere perso la memoria della guerra e non aver fatto memoria di chi la guerra l'ha vissuta non ci ha messo a riparo dalla possibilità della guerra per cui più che gli slogan pacifisti che servono noi avremmo bisogno di tornare a raccontare la guerra che abbiamo vissuto noi ma insomma ma è possibile adesso lo dico in streaming so che succederà un macello però è solo quando si perde la memoria della guerra che si possono dire corbellerie su via su via rasella e su altri luoghi perché quando tu hai mostro hai cancellato la guerra dal tuo orizzonte poi uno si può svegliare 70 anni dopo e mettere in discussione ciò che invece in discussione non si può più mettere in teoria e la perdita della memoria in realtà è un recupero del rischio della manipolazione della realtà dei fatti della storia e dunque anche del nostro futuro io penso che davvero capisco chi non vuole raccontare la guerra io lo capisco perché le ho viste e le vedo molto volentieri partecipo agli incontri nelle scuole o in altri luoghi decine e decine di incontri ne abbiamo inviti abbiamo fatto credo 200 incontri in questo anno faticosamente perché magari preferirei delle volte dico sto a casa con la famiglia però io stesso sento la necessità di parlarne ma il mio timore è che a un certo momento ce ne dimenticheremo come ci siamo dimenticati della guerra dei Balcani però lì la guerra non è finita come immaginiamo noi perché il fuoco sotto la cenere cova ancora ha lasciato ancora molte cicatrici e tante ferite aperte e il mio grande timore è che finita questa guerra ce ne dimenticheremo e così insomma saremo pronti a farne anche un'altra grazie grazie mille io devo farti un augurio e cito Robert Capa come fai spesso anche tu che diceva che il più grande desiderio di un fotoreporter di guerra è restare disoccupato grazie mille grazie Anello Scavo grazie continueremo a seguirti in video su carta stampata e quando riparti penso di ripartire dopo il 7 di maggio per una ragione privata nel senso che quest'anno vorrei essere al compleanno di mio figlio che ho bucato molte volte recentemente e quindi no in realtà anche per una ragione pratica proprio perché presumiamo che maggio sarà il mese della grande controoffensiva e adesso c'è in Ucraina Giacomo Gambassi di Avvenire che bontà sua ogni tanto mi dà il cambio con Lucia Capuzzi che dovrebbe partire dopo Giacomo in modo che io riesca un po' a fare decompressione e lo diciamo però non serve a niente la decompressione cioè noi diciamo si faccia la decompressione poi tanto ricominci quindi e poi insomma penso di fermarmi lì alcune settimane per seguire un po' quello che che accade il grande desiderio il grande io ecco il grande cruccio di questi 30 anni di carriera in area di crisi è non essere mai riuscito a scrivere La guerra è finita io delle volte sogno l'incipit delle volte dico come lo scriveresti no? perché cerchi quello letterario direi semplicemente la guerra è finita o semplicemente è finita o solo finalmente non lo so però il mio grande cruccio è non essere mai riuscito a scrivere La guerra è finita per cui il mio desiderio è tornare la prossima volta magari me lo faccio tatuare La guerra è finita grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille